e che poi ha preso un taglio diverso che è quello che ci ha portato qua oggi e ovviamente per la fine farò tutti i ringraziamenti del caso, ci ha portato qua oggi quindi che suggelle in qualche modo una ripresa di collaborazione con il Comune di Milano. Quando abbiamo aperto il corso di ottobre di cittadinanza digitale e tecnicivismo mostrei alcune immagini che poi sono state quelle che hanno portato Time a indicare come persona dell'anno 2011 il protester. Stamattina mi avete sentito che proprio oggi è un anno dall'inizio della rivolta a Piazza Taia al Cairo e pare che oggi venga per la prima volta dopo alcuni decenni torta la legge marziale in Egitto. E quindi mi sembra un buon auspicio fare questo seminario oggi. Le immagini erano quelle delle tante piazze della Primavera Araba e io presentando, queste sono le slide della prima lezione del corso, mostravo questa immagine che forse da lontano non vedete, c'è una scritta in questa foto che trovai per caso sul Washington Post perché l'anno scorso e in argo e in inglese c'è scritto We are the man of Facebook che è significativa, credo interessante perché mentre ci sono tante discussioni sul ruolo che hanno avuto le tecnologie e i social media nella rivoluzione del Primavera Arabe, insomma i cittadini del Cairo in qualche modo lo hanno detto loro, hanno risposto loro alla domanda, quantomeno ovviamente come fattore abilitante, non la può sostituirsi alla determinazione delle persone di andare in piazza e rischiare la vita per abbattere un regime, però sicuramente le tecnologie e i social media hanno giocato un ruolo abilitante che ha favorito il successo e comunque l'iniziativa delle donne e dei giovani soprattutto dei paesiali. Il time dice dei protester, forse a me sarebbe piaciuto di più o forse noi abbiamo la fortuna, essendo in paesi ovviamente con condizioni al contorno molto diverse e molto migliori, usare il termine dei cittadini attivi e sempre nelle slide inizio corso io feci questa immagine perché mi colpisce quando lo shape della piazza del Cairo, lo shape di piazza Duomo a Milano era lo stesso e di tante altre in giro per il mondo in questo periodo. Credo che alla fine ci accomuni tutte queste esperienze la voglia e il desiderio di riprendersi in mano il proprio futuro da parte dei cittadini, cioè di diventare cittadini attivi. Ma questi cittadini del 2011 e del 2012 sono anche cittadini digitali e l'immagine che io trovo efficace per rappresentare questo fatto l'ho portata via grazie ad Anna Masera, giornalista della stampa, che aveva pubblicato questa immagine del concerto di Lady Gaga, proprio poco dopo, era metà giugno, in cui la cosa che ovviamente colpisce è questa massa di cellulari che tutti i fotografi ne riprendono il concerto. Sono cittadini digitali individuali, allora credo che la scommessa, ciascuno qui lo sta facendo per sé e quindi credo che la scommessa che in qualche modo ci sia, sia mettere insieme a quelli che verrebbero detti networker di bilingualismo, cioè cittadini che giocano di per sé, metterli insieme e farli diventare un collettivo. Allora, noi nel corso abbiamo cercato di ragionare proprio su questo discorso della cittadinanza digitale, andando a capire come le tecnologie possono dare spazio e dare supporto e abilitare questa volontà di partecipazione, abbiamo visto come l'utilizzo e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche, di protocolli di rete che garantiscono l'anonimato e la non perseguibilità, la possibilità di non trovare da chi perviene un certo messaggio alle fonti, quindi ha permesso l'utilizzo di questi strumenti nelle prime vere arabe, dove ovviamente i regimi potevano facilmente utilizzare le soluzioni tecnologiche se non adeguatamente protette per identificare gli oppositori e quindi abbiamo cercato di passare questo arcobaleno dei diritti andando a vedere le caratteristiche che deve avere la rete, le necessità di accesso e quindi tutti i vari livelli di questo arcobaleno dei diritti. Con che prospettiva? La prospettiva degli informatici perché noi questo siamo, anche se riteniamo, e la prova dei panelist di oggi lo è, che abbiamo bisogno di imparare da altre culture disciplinari, tutti i nostri elettori oggi sono tutti e tre, un po' per caso ma forse non per caso, scienziati politici. La prospettiva degli informatici è, la catturo in tre slide, la prima a Lankei, quello che in fondo ha inventato il personal computer, in verità, e che dice che the best way to forecast the future is to invent it, quindi invece che fare previsione gli informatici vorrebbero e cercano appunto di sviluppare anche cose piccole, dei pezzi di software che permettano di migliorare in qualche senso la nostra vita, sviluppare tecnologie, ma avendo ben presente che la tecnologia non è qualcosa di a se stante, dobbiamo usare questa frase di Terry Vinogrand che dice che software design is like architecture, cioè noi sviluppiamo strumenti che sono però all'interno di spazi in cui le persone vivono e le persone vivono in questi spazi come degli abitanti, quindi noi non stiamo usando o sviluppando una tecnologia, stiamo facendo qualcosa forse di molto più impegnativo e il nostro sforzo è quello di rendere anche i nostri ragazzi consapevoli di questo fatto. La terza pilastro del ragionamento, il ragionamento sulla cittadinanza digitale è quello del fatto che si vive in un mondo intrinsecamente augmented, cioè in cui non c'è più distinzione tra un online e un offline, dicevamo a pranzo poco fa con due delle persone che sedono a questo tavolo, ci si incontra in un luogo fisico, poi si chiacchiera in rete, ci si chiacchiera in rete, quindi c'è questo continuo interplay tra queste due emissioni che sono ormai intrinsecamente inscindibili l'una dall'altra, non ha senso discutere dell'una dall'altra, soprattutto non ha senso pensare con la dimensione online e virtuale come di un qualcosa appunto di virtuale, è reale esattamente come tutte le nostre interazioni di persone. Allora oggi siamo qui perché avevamo in sospeso una parte, dicevo questo seminario originariamente nato all'interno del corso, per ragionare su un livello più esterno, più impegnativo in qualche misura, più coinvolgente della partecipazione, cioè la partecipazione nativa dei cittadini nelle decisioni che gli competono direttamente. E per farlo volevamo imparare a chi ha già fatto qualcosa, perché è ragionevole sviluppare le tecnologie e gli spazi, come dicevo prima, sulla base delle esperienze già fatte, imparando da quando si è già fatto. Allora da dove vogliamo imparare? Vogliamo imparare dal Brasile, che da questo punto di vista è portatore forse della più lunga esperienza e quindi abbiamo incontro, e lo ringraziamo ovviamente molto, la presenza di Bernardo Arrizio in Italia per farci raccontare che cosa è successo in Brasile e quale lezioni possiamo imparare dalla loro lunga esperienza. ma l'esperienza del Brasile, di cui sentiamo parlare da anni, tra l'altro abbiamo invitato in passato un altro di questi workshop, un altro brasiliano che ha studiato i bilanci partecipati, a volte ci sembra un po' lontano e allora c'è bisogno anche di legare le cose delle cose che accadono vicino a noi e quindi la seconda relazione sarà uno dei due giovani ricercatori di Stefano Stortone che è in qualche parte qua in giro e questa è la foto del bilancio partecipato di Canegrate, quindi di un piccolo comune della provincia di Milano che però ci dimostra che si può fare, si può fare in Italia, è già stato fatto e quindi perché non provarlo in altre situazioni e anche in questo caso cercheremo di imparare dall'esperienza che cosa questa esperienza già fatta ci dice. In ultimo siamo informatici e quindi vogliamo dare un occhio a come si può abilitare, supportare le partecipazioni, questi processi partecipativi con degli strumenti informatici e l'ultima relazione, ho rubato a Eva questa slide nascosta, che ci racconterà un po' di alcune, di un'analisi di alcune esperienze fatte con strumenti informatici in questa recente tornata elettorale. Per me è soprattutto una vecchia conoscenza del Dipartimento di Scienze dell'Informazione, Gianni Vellentoni che credo sia giusto, forse ricordare, direi e tensionare, anche se ormai è un po' male nel mese per riuscire a rinvitarlo fisicamente in questi casi, credo che ne dobbiamo parecchie. Grazie amici e mi permettetemi di ricordare anche grazie a Anna Scavuzzo, che è un altro vecchio pezzo di storia, che adesso è consigliera comunale, ma insomma è una lunga storia dentro il laboratorio di informatica civica, Franca Castellano e Rosario Chiavelli che è aiuto del Comune, che siamo riusciti in pochissimo tempo a organizzare qua. del Comune, che bisogna ancora ringraziare, oltre ai partecipati, ma questo può essere raccontato di Stefano Rolando, soprattutto vorrei ringraziare l'assessore della cultura che ci ha messo a disposizione questo bellissimo spazio. Non sarebbe stato possibile questo workshop se la provincia di Milano non organizzasse da un po' di anni il premio Comunicami. E quindi è assolutamente non formale il ringraziamento a Sandro Pepini, perché io del bilancio di Cariglato forse non avrei saputo nulla, quindi non avrei saputo nulla di amici, non avrei incontrato Leonardo perché era presentato Stefano Sordone, se non ci fosse questa occasione che la provincia di Milano da un po' di anni organizza per far conoscere le buone, per raccogliere, per far conoscere le buone pratiche di comunicazione pubblica, che in particolare sono così generose, dopo gli anni mi hanno invitato per la parte dell'intervento. E quindi mi sembra tra l'altro un bel auspicio che queste due istituzioni milanelle siano qui oggi ad ospitare questo seminario e vi lascio qui la notte. Grazie. Con Fiorella ci conosciamo da veramente troppi anni, però vi voglio dire, eravamo lì in università quando dei pazzi dialogavano con le schede perforate e non c'erano neanche ancora i monitor, ti ricordo Peter, eppure riuscivano a stabilire una connessione attraverso questa macchina con le altre persone. Però anche in quei primi momenti è stata molto chiaro la nostra visione, che poi si è tradotta anche in adesivi che circolavano e sono ancora attaccati in tutta l'università, i citizen. Cioè noi abbiamo capito che quello non era solo alla maniera di comunicare di ARPANET che poi si è tradotta in internet, beh non c'era ancora internet, capite, quando c'erano le library, ma era qualcosa di più, era in modo, non solo la transizione sicura per passare, chiaro che il protocollo che poi ha dato origine a internet era quello di ARPANET, era un modo per avere delle comunicazioni sicure per questioni importanti, magari di carattere militare, invece noi come tanti nel mondo avevamo capito che era l'inizio della cittadinanza digitale, quindi i citizen, essere cittadini attraverso la comunicazione, attraverso il diritto d'accesso all'informazione, non solo, perché questa è la base chiaramente, chiaro che il diritto d'accesso all'informazione presuppone una trasparenza sulle cose che vuoi comunicare, quindi ad esempio anche sul bilancio bisogna capire bene come possono essere strutturati e essere messi con quella trasparenza di lettura che vi assicuro è legata anche allo stato attuale, a volte gli addetti ai lavori, i consiglieri comunali, ho fatto per 10 anni i consiglieri comunali e so cosa vuol dire, quando all'ultimo, l'ultima settimana ti portano una catasta così di faldoni e tu non riesci a capire dove sono finiti i fondi della cultura, dei spersi, ma non per cattiva volontà, proprio per mancanza di strumenti. Allora, devo dire che Fiorella è stata l'ispiratrice anche di cose che io ho fatto in maniera privata, fuori dalle amministrazioni, ma che adesso avranno un proseguo perché le esperienze non bisogna mai buttarle via e Fiorella mi ha fatto subito capire, questa cittadinanza digitale per me ha un'importanza enorme, non solo chiaramente nei paesi in cui c'erano dei grandi deficit di democrazia, questo tipo di cittadinanza come abbiamo visto ha messo in moto tutto un meccanismo che diventerà reale, chiaramente questa commissione fra virtuale e reale è la realtà proprio del nostro mondo, ma anche in paesi dove la democrazia c'è come da noi, è chiaro che invece il diritto a poter partecipare alla progettazione e alla decisione è ancora un sentiero molto difficile e io credo invece che sia la scommessa che dobbiamo giocare proprio anche sul fronte dell'economia nuova, non new economy, qui meno male che non c'è la traduzione se no ci sarebbe subito disunderstanding, quindi non new economy che veniva trainata più da un carismi finanziari, ma l'economia nuova è quella della coproduzione, quindi coproduzione vuol dire in termini dei bisogni primari ovviamente, pensate all'agricoltura, che i consumatori possano prima di tutto comunicare le esigenze, ma anche indirizzare sulla produzione, anche sui servizi, ma pensate al prodotto pubblico amministrazione, come è importante che venga coprodotto dai cittadini, quindi io vedo molto importante nei termini proprio di uno sviluppo operativo che mette le pubbliche amministrazioni nella stessa modalità dell'economia, tu pure. Quindi devo dire che in questo percorso appunto in maniera al di fuori, oltretutto ero in opposizione, quindi non è che potevo avere molto oggi in capitolo, abbiamo tentato di sperimentare, perché Fiorella ci ha detto tanti anni fa, guarda che almeno una volta all'anno noi di ricerca civica dobbiamo per forza fare la festa in cui ci incontriamo e ci tocchiamo. Allora avevamo sperimentato un portale per il diritto d'accesso all'informazione, chiama Milano, che nasceva proprio praticamente sulle teorie di Rifkin e quindi che promuoveva una comunicazione bidirezionale dei cittadini con la pubblica amministrazione, perlomeno con le notizie di quello che avveniva in città e che veniva deciso dall'alto, non essendo parte della maggioranza non è che potevo fare altro che garantire tutta l'informazione che anche con l'opposizione potevo portare. E anche però contemporaneamente un'informazione scambiata orizzontalmente fra i cittadini. Abbiamo capito sempre seguendo il consiglio di Fiorella che occorreva, al di là di dare informazioni corrette su cose che non avevano informazioni corrette come le informazioni sull'inquinamento, dovevamo avere una piazza, Fiorella Cortiana le chiamava sempre piazze, con un mix tra il virtuale e il reale, le piazze ci sono anche in rete ovviamente, sono luoghi, quello che diceva Fiorella prima è che anche nel virtuale si costruiscono dei luoghi, poi che corrispondano o meno ai luoghi reali non ha importanza, ma sono luoghi, cioè hanno la struttura delle comunità che frequentano i luoghi, quindi poi che siano in dettaglio la piazza reale o meno non ha importanza, anzi può esserci una piazza virtuale che corrisponde a più piazze reali. Abbiamo anche provato a creare un luogo fisico e quindi abbiamo fatto un negozio civico. Negozio è una parola che poi tradotta in inglese, il minimale sempre che non c'è la traduzione sarebbe shop e sarebbe una cosa commerciale, ma lì non si vende né si compra, ma si scambia, si scambia informazione e servizi. Quindi non buttando via niente delle esperienze, tutto questo lo abbiamo offerto anche durante la campagna elettorale che precedeva poi le elezioni del sindaco, all'attenzione di chi poi ci avrebbe governato e quindi adesso la promessa la manteniamo e faremo, ho avuto questa delega da parte del sindaco, di realizzare i luoghi fisici, i negozi civici, prima di fare il progetto chiaramente e di farlo approvare democraticamente dalla sede istituzionale, il consiglio comunale che rappresenta i cittadini e poi di realizzare i negozi civici e le tecnologie necessarie, certo che vuol dire che i negozi civici non saranno delle monade isolate, ma saranno ugualmente una rete che in una città scomposta come Milano, perché qua Milano, perché stiamo facendolo qua Milano questo discorso, ma perché Milano non si fa mancare niente come bisogni, è innovativa in tutto anche nei bisogni di una città che era più composta quando anche le zone amministrative corrispondevano più con identità di quartiere, quando l'immigrazione era più autottona e quindi la lingua era più facile, anche se a volte il sardo è più difficile da capire dello spagnolo o dell'arabo, ma comunque era un po' più facile scambiare, adesso la vera scommessa è che Milano nelle sue dimensioni ridotte può essere il modello veramente della nuova cittadinanza e della nuova economia. Sarò molto felice di ascoltare quello che si è già realizzato in parte, ma qual è la teoria che sta sotto la proposta di bilanci partecipati e mi ha fatto molto piacere pensare che ci siano nazioni in cui i piani urbanistici non hanno valore se non sono validati da un processo partecipativo. Pensavo alle nostre lotte sul piano di governo del territorio e devo dire adesso proprio sull'onda di questo ripartiamo dalle osservazioni dei cittadini. Questo dovrà essere supportato da una rete efficiente di scambio informativo. Mi raccomando partecipate a questa fase che deciderà il futuro degli spazi di Milano, ma quindi delle funzioni di vita di Milano, che è la fase della decisione sul nuovo piano di governo del territorio. Grazie, grazie. Grazie. Grazie, grazie. 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 Mi ha chiesto di essere sintetico, per cui cercherò di fare due considerazioni in 5 minuti. chiaramente partendo dall'esperienza del periodo Comuni, che è la provincia di Milano portavanti da 6 anni, e che con la lavorazione di Fiorella quest'anno abbiamo cominciato a ridefinire, diciamo, dando una forte valenza a quei progetti che interpretavano la comunicazione come in una dinamica non esclusivamente di tipo informativo, cioè unidirezionale, diciamo tipicamente da amministrazione pubblica, ma andando a cercare quelle esperienze comunicative che fossero connesse a, diciamo, modelli di interazione digitale tra amministrazione e, diciamo, cittadinanza in forma singola o associata. e abbiamo scovato, appunto, come diceva Fiorella, il progetto e il, diciamo, percorso fatto dal Comune di Caneocrate, che ci ha colpito molto perché concedeva ai cittadini la possibilità di scegliere come destinare un pezzetto del bilancio comunale, se destinarlo ad un parco, se destinarlo ad una scuola civica, eccetera. Cosa che, quando siamo accorti, ci ha lasciato con un minuto. Finalmente. Finalmente. Questo anche perché è esperienza, diciamo, consolidata in Italia. I progetti di cittadinanza digitali, che sono partiti dall'alto, raramente hanno portato risultati poi efficaci. Io ho partecipato al percorso costruito con il Ministro Stanca nel 2004, quando era l'ambito del primo piano di governo nazionale furono destinati 10 milioni di euro a progetti di democracy. Di quei progetti lì ne sono rimasti molto pochi. Ne sono stati finanziati, mi sembra, 120, qualche di uno molto bello, altri un pochino, diciamo, marginali. Ne sono rimasti visti pochi. Questo perché la concezione di base era una concezione che imponeva la cittadinanza digitale dall'alto, e non, diciamo, ascoltava quali erano le reali esigenze del cittadino digitale, che nel frattempo si auto-organizzava per partecipare attraverso social media. Cioè, mentre noi stanziavamo 10 milioni di euro per costruire cittadinanza digitale, il cittadino nel suo garage costruiva Facebook. Quindi c'era un po' di disallineamento. Questa cosa, chiaramente, di avere scovato con il comune di Chiaregratte una esperienza vera e concreta in provincia di Milano, dove noi abbiamo, di cittadinanza attiva, è stata per un motivo di estremo interesse e che porteremo, appunto, ai vari ritauni di confronto. Un'esperienza molto bella che dimostra anche che, come sia il comune, l'ente di prima linea di front line nella negoziazione con il cittadino ed è lì che bisogna assolutamente intervenire per costruire quello spazio pubblico condiviso che è alla base della cittadinanza digitale. Chiudo con una considerazione un pochino tecnica, ma secondo me molto importante, perché vorrei lanciare un piccolo grido di allarme su di una situazione che sta avvenendo in parecchie amministrazioni pubbliche. La conseguenza di un decreto legge che ha nel 2011 ristretto del 80% le spese di comunicazione delle amministrazioni pubbliche. Un decreto legge sostanzialmente passato quasi inosservato, ma che sta influenzando molto sull'attività di comunicazione e di informazione delle amministrazioni pubbliche. Ed è sostanzialmente evidente come se non c'è comunicazione e non c'è informazione difficilmente ci sarà partecipazione e difficilmente sarà possibile costruire uno spazio pubblico comunicativo condiviso che è alla base del diritto di partecipazione di cui parlava Mili. Questo decreto legge che è stato trasformato in legge 122 del 2010 sta farcidiando le iniziative comunicative soprattutto delle amministrazioni locali. Il rischio è che sarà difficile nel prossimo futuro assistere a programmi come quello che ha giudicato a toccare grazie se permangono queste condizioni, perché alla base c'è una concezione della comunicazione come elemento ancellare alla attività delle amministrazioni pubbliche. come nel sistema di impresa la prima voce che si taglia quando c'è crisi è la comunicazione, anche nell'amministrazione pubblica si è proceduto con questa linea. con gli simultanei quindi sostanzialmente lineari molto pesanti che stanno fortemente eliminando le attività basilari di comunicazione e di relazione con il cittadino. Questo voglio segnalarlo proprio in un contesto di dibattito sulla cittadinanza digitale. Grazie mille, scusatemi se ho fatto a 7 minuti. Grazie Alessandro. Non ne portiamo via altri e darei subito la parola con un veloce shift delle slide a Alessandro Grazie! Grazie a tutti. 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 e oggi Ecuador e Bolivia e anche na i più acompanhati i shelves dell'arriso for the cities, for the states and for the national government to introduce participatory policies in these areas. So this is the first point that I would like to stress here. In order to be able to have a strong trust of participation, it's important to ground it in a legal tradition and many times also to change an existing legal tradition. And I have been in France in October and one of the interesting things that I learned in France is that there is now within the French Socialist Party a committee to propose constitutional changes in the case the Socialist Party will win the next presidential election. So we can see that the idea that constitutional changes are important for participation is not just a Brazilian idea but it's also an idea that is making important in roles in Europe as well. So it is from the constitution making process in Brazil that started in 1987 and led to the new constitution in 1988 that we can speak about participation in Brazil. And to speak about participation in Brazil means to speak about three different types of design. And this is something that I really want to stress here because Brazil has many participatory designs but I know that one of them became world famous and everyone talks about participatory budgeting. So what I am going to do in this talk is I will talk a little bit about participatory budgeting but I will also show that it's one of the limited forms of participation that we have in Brazil and we also should pay attention to the other formats. So the three formats that we have I call them bottom-up, power sharing and ratification. Bottom-up participatory budgeting is clearly a bottom-up form of participation. Bottom-up form of participation has four main characteristics. First it's open-ended at the grassroot level which means as many of you know, participatory budgeting, participatory budgeting starts with open assemblies in the regions. So it's open-ended in this sense that each one of the citizens who wants to go to the assemblies, it can go, the assemblies are open, so participatory budgeting is a bottom-up, open-ended form. The second characteristic is participatory budgeting has low involvement of the government and low involvement of the government has two different meanings. Of course participatory budgeting needs government initiative and without government initiative participatory budgeting could not exist. It's a matter of fact most of the participatory formats need government initiative but once participatory budgeting is implemented the government has low involvement. And by low involvement means that the assemblies are civil society or citizens' assemblies. the government does not participate. In addition to that after the assemblies there is the formation of a city-wide body that we call participatory budgeting council. And in this council the government does not have a voting. It has a seat but just only talking rights. So this is what really points in the direction of low level of government involvement. And the fourth element is participatory budgeting needs. And bottom-up designs need very strong civil society and very strong involvement of the government. What I'm going to show to you is that many times all these characteristics are not in place but maybe we can also introduce other forms of participation that can compensate or offset from this lack. So here I have just a small thing on the expansion of participatory budgeting in Brazil. It started in 1989-1990 with very few experiences. It went to 13 experiences after some time. And we have today in Brazil 201 experiences. Brazil has 5,500 cities. So participatory budgeting has been introduced in Brazil. It is important in Brazil. But it has been introduced mostly in the south and south-eastern parts of Brazil. Here we have a Brazilian map. And with this Brazilian map Brazil is the opposite of Italy. And the south is more developed than the north. And the north and the north-east are underdeveloped. We don't have any regional problem in this regard. So this is the map of Brazil. And what we can see is we have very little experiences of participatory budgeting outside the south and south-east of Brazil. Most of the experiences are in five states. Yes, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo and Minas Gerais. These are more developed states. And these are also states that have higher human-developed indexes. So all this I am pointing out for you to say that participatory budgeting is a form of participation that is very important in Brazil. But it is one that exists in certain parts of the country and is successful in these parts of the country. When we move to power-sharing designs, we move to a design that is different from participatory budgeting and different in many respects. The first respect is less participatory in the sense that it is not bottom-up. It is more from the middle. It is more civil society and state. And many times when I lecture here in Europe, I point out that I think that power-sharing designs are more similar to the European experiences of participation that I know than bottom-up designs. For many reasons. For many reasons. Because civil society is more organized. Because state initiative is more important. And because civil society associations usually have more say and more participation in committees, in councils. And this is what I understand by power-sharing. Power-sharing designs are those that allow for more limited forms of participation at the grassroots level. Which does not mean that there is no participation at the grassroots level. The most important form of power-sharing design in Brazil is health councils. Health councils exist in at least 98% of the Brazilian cities. So around 5,300 cities in Brazil have these councils. These councils they have originated from the 1988 constitution. Especially from a chapter that says that in order to implement health policies, a government needs to establish a body that has parity in between state and civil society actors. So this is the most important element of power-sharing design is that councils are constituted with the same number of actors. So if in a large city, like São Paulo, we have a health council with 70 members, 35 are state members, 35 are civil society members. And these members, they need to discuss and to come to some sort of consensus on the policy that's going to be carried out. So differently from the bottom-up design, what is the important characteristic of power-sharing design is the state has a lot of influence, the civil society also has a lot of influence. And in these designs, what we have frequently is what we call civil society representation. We may talk about it later, but this is the idea that civil society also represents citizens and that this representation also may have legitimacy in the decision-making on policies. So different from bottom-up designs, what we have here is government involvement together with civil society involvement. So civil society actors, they share decision-making. And the fourth important characteristic of bottom-up designs, of power-sharing designs, is that they are legally institutionalized. Participatory budgeting is not legally institutionalized in the sense that most of the time, I think we almost have the same legal tradition, so this explanation will make sense. When I am in the United States, I have a tough time explaining it. But most of the time, participatory budgeting is introduced by a decree. A decree issued by the mayor, a decree issued by a state governor, and this decree has limited capacity because it can be revoked by another mayor or by a state governor. But when we speak about power-sharing design or house councils, they are required by the constitution and they need to exist in order for federal transference of resources to be transferred from the federal government to the cities. So the tricky thing about health councils is that if they are not in place, or if they don't approve policies, or if they are disempowered by local governments, federal government can suspend the transference of resources to the cities. And this is an important sanction element. And this is an important sanction element. And sanction many times is important for the success of participatory institutions. So here I have a table on local policy councils in Brazil. They exist in health in 98% of the cities. They exist in social assistance area in almost 95% of the cities. They also exist in other policies, especially environmental and child and teenage policies. In all these areas, there are transferences from the federal government. It's important. So health, 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 social assistance, assistance, social assistance, education, labor, environment, tourism. So in all these areas exist councils in Brazil. And these councils are very important for the specific policies. These councils, they work, I think, very well in large cities. We don't have much data on how they work in small cities, but most of the time they work if civil society is organized enough in a city to make an important representation in this area. And the third form of public participation in Brazil that I would like to talk with you is what we called ratification, designs. And the ratification is again, again, temporary ratification has a lot to do with the 1988 constitution. It is the direct result of some of the chapters of the 1988 constitution, especially the chapter on urban planning. The chapter on urban planning is a chapter that has as its main aim the democratization of the access of the urban land to the poor in Brazil. As you know, Brazil has very large cities. In addition to that, Brazilian cities grow very fast. Sao Paulo had 4 million people in 1964 and today has in between 15 and 16 million people. City of Porto Alegre had 250,000 people in 1964. Today it has 1.3. Belo Horizonte had around 300,000 people in 1964. Today it has over 2 million. So Brazilian cities grow. And Brazilian cities grow very fast. And the problem is how to organize their growth. Yeah? In this regard. I think Brazil and Italy are different. I've been to lots of cities that have about the same population in the last 50, 100 years. So the cities are not growing. But still the fact that Brazilian cities grow create problems especially for the land tenure of the urban poor. So still in the 80s emerged an important movement in Brazil called Movimento Nacional pela Reforma Urbana, the national movement for urban reform. And this movement went to the constitution and could approve many important devices in the constitution that organized in a better way. And it grows among them the concept of the city. The idea is that individuals have the right to the city. And the right to the city involves the right to participate in important decisions on urban planning. And the constitution also requires that every large city in Brazil with more than 50,000 people should have a city master plan. And the city master plan needs to be approved through public audiences. So what are public audiences? Public audiences are meetings that are called by the city and citizens go there and they can either approve or reject city master plan. And this is exactly what we call the ratification element in participatory policies. Yeah? The ratification is different from power sharing and bottom up because in the ratification there is not the deliberation in the process of designing the plan or the power sharing in the process of designing the plan. But the plan needs approval. And the fact that the plan needs approval means that governments cannot do whatever they want. As a matter of fact, as a matter of fact, there is also a mandatory and a sanction element in ratification design. The mandatory element is city cannot just commission a plan, send to city council and approve it. It needs the public audiences, as I mentioned, but also there is a sanction element. And the sanction element is if a city does not carry out public audiences, the legal system can block or even cancel the city master plan. And there have been many cases like that in Brazil. Yeah? Salvador, for instance, in North East, had its city master plan canceled by the legal system. So the legal system becomes actively involved when city master plan are elaborated. And this is very important because many times some regions of the city are going to become regions for development. And then there is, let's say, the land flipping interest. Other parts of the city, there are going to be important provisions for new constructions. And this is also borders, those who like land flipping. So the value of the land and those who own land in the cities are very interested in city master plans. And either they go or they try to block the public audiences. And public audiences for city master plans are very important in Brazil. So far, there have been, I'm not wrong, 2,148 participatory city master plans in Brazil. 800 are under revision right now, which means that many of the city master plans pass through revisions. And these revisions are also very polemic. As a matter of fact, the law in Brazil requires every city with more than 50,000 people to revise its city master plan every 10 years. And then it can evaluate which part of the city did not grow so much. And this becomes a process of evaluation. So here, what I have is a map of Brazil with all the regions and the number of cities, of Brazilian cities, located in each one of the regions. Brazil then has five main regions, but most of the cities, as you can see, are located in the south and southeast. 54.6 of the Brazilian cities, no, 21.3 of the Brazilian cities are in the southern region and 30% are in the southeast. Together, this makes more than 50% of the Brazilian cities. We can also see that city master plans have been carried out more in some regions, more developed regions, cities with higher human-developed indents. The cities, the regions with more organized societal dose have been carrying out city master plans. So, what we can make from this idea of three different forms of participation, that we can apply them in different situations. The first thing is that I defend is that participation has to be applied according to context. And though this seems, or according to political and social context. And though it seems rather obvious issue, it has not been that obvious because some of these forms of participation became much more important than others. Some are more well known than others. And here we, people who spoke before me, talked about communication. And this means that many times policy makers, they think that they just have a choice between participation and non-participation. When, as a matter of fact, policy makers have a choice between participation in different formats. And I think that this is very important. Which of the formats to choose when we want to introduce participation. My point is, participation through participatory budgeting is very empowering, but it's also very demanding. And it's very demanding both to civil society actors and to policy makers. And many times policy makers don't want to commit themselves so much to this very broad form of participation. And they think, well, then there is no way I cannot carry out participation. My point here is, no, participation can be carried out in many formats. And we need to know these formats better. And I'm not claiming here that my three designs are the only ones. As a matter of fact, I think that, and I would be very happy to learn that there is a fourth or a fifth format, yeah? So, I think that we need to understand better what are the formats of participation and when they should be carried out. My second issue is, we can also introduce, we can also introduce participation in stages, yeah? And most of the time, and most of the Brazilian cities, when we look back to this 27 years of participation in Brazil since democratization, none of the Brazilian cities introduced participatory budgeting, house councils, city master plans, social assistance councils at the same time, yeah? With time, all these formats were available and all these forms of participation, they work in Brazil, but they were not introduced simultaneously, yeah? So, my second point here is, participation can be introduced in phases. And, as the population responds to the different formats, policymakers may be able to move from one phase to another, yeah? And I think this is also important because a city may want to introduce participatory budgeting without having all the conditions. And one of the important ideas is perhaps a city master plan may be a good starting point from there to move to participatory budgeting or to other forms of participation. So, my second point is, we should pay more attention to the issue of stages and stages in the introduction of participation. My third point is, we cannot use participation for many things, we would like to use participation always to bring more distribution, of access to public goods, more infrastructure, but the case of city master plan in Brazil also shows that sometimes it's very important to use participation to block some policies that policymakers want to introduce. And the blocking issue is very important. I'm here for very little time, but I've heard about the plebiscite and one of the issues of the plebiscite was whether to introduce or not private water policies, if I'm not wrong, yeah? So, somehow, I think that's exactly the same issue, yeah? Population should be consulted not only for what it wants, but many times it's also important to consult the population on what it does not want. And many of these formats of participation work very well for them, especially ratification designs. And my fourth point is, it's important to introduce participation into law, because when participation is introduced into law, we can guarantee a long-term implementation of the processes, if the legal system is willing to help, yeah? And this has happened in Brazil many times. Workers' party administrations introduced participatory budgeting or health councils in a few cities, but all the conservative administrations did not want to have anything with participation, but once it was introduced into law, it could be guaranteed by the legal system, and once it is guaranteed by the legal system, it can be incorporated into the legal behavior of the citizens, or the legal expectations of the citizens, and then citizens would be the ones who are going to demand participation because they would know that they have the right to participate. So, I'm not going to go much longer than that, but I think that these are ideas that are important to be discussed if we want to forward participation here in Europe. Thank you. Thank you for your speech. Ci sono domande eventualmente? Se non ho una io. Qualcuno? Allora comincio io. Do you want them in Italian or in English? Allora, la prima domanda è, parlato di partecipazione, quali sono le tecnologie a questo punto che trasportano questa partecipazione? Nel senso che tutto il discorso mi è sembrato volto a una partecipazione fisica, in verticale, come si dice nel gergola bio-matoriale. Mi riuscire a avere un minimo di escursus sulle tecnologie possibili. E la seconda domanda è, mentre parlavi ho googlato la Costituzione del Brasile, c'è un particolare interessante che mi ha colpito molto. Viene specificata una cosa che si chiama habeas data, che fa il mimicking dell'habeas corpus inglese. Mi piacerebbe che ci fosse una piccola digressione su questa cosa che mi è sembrata molto interessante. Dice anche il pointos de cultura se sono luoghi in cui la partecipazione. Una bellissima domanda. Innanzitutto trovo chiaramente l'avanguardia di inserire nel sistema legislativo la partecipazione. L'altra domanda era sulla quantification della partecipazione. Cioè se la partecipazione è sempre considerata allo stesso livello o se sono previste diversi stadi di qualificazione per andare a partecipare. Questo è un dibattito che spesso emerge. Qual è il numero percentuale di partecipazione in termini di quante persone partecipano? Cioè partecipa l'1%, il 5%, il 10%, il 20%, quanti sono coinvolti e quanti restano fuori dalla partecipazione? Grazie. 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 Tecnologa. E, qual è? E, qual è? Qual è? Dice, non pari. Esa cosa che non pari. E, qual è? Inoltre. E, qual è? Inoltre. E, qual è? Inoltre. Esa cosa che non pari? Tecnologa, sì. Il start of participation in Brazil coincided, but still, quando participation emerged in Brazil, internet technologies were just starting. Initially, all participatory budgeting meetings were face-to-face, the council was face-to-face, health councils and health council, the Brazilian law also, I didn't elaborate on that, but the Brazilian law also calls for every two years for national conferences, and Lula's government implemented many conferences. They used to be also face-to-face. So, all these formats were initially face-to-face. What's taking place right now is that we are introducing technology to improve participation, to create more incentives for middle-class people to participate in participatory budgeting, where most of the participants were more labor class or poor participants. So, which are the technologies available? Yeah? Or used. One, to call for the meetings. Yeah? Right now, we use many technologies to call for the meeting. For instance, in a few cities in Brazil, in the day of a participatory budgeting meeting, you receive a phone call from the mayor. And it makes a lot of difference. You can say, well, if the mayor is calling me, I'm gonna go. Yeah? And then, this is a way that you can use technology to improve participation. And it's interesting because this phone call, electronic phone call technologies have been available for very long, but they have not been implemented in participation. In the US, it's very common, for instance, in the election day, you receive a call from the president and say, well, please go and vote for my re-election. But it's not used to tell people, well, I want you to participate in the policy-making process. And we have data from a few cities in Brazil that show that once the mayor calls you, attendance in these meetings is increased. Second technology, some process of participatory budgeting take electronic votes. Yeah? and this has been implemented in Belo Horizonte for very big public works. So, participatory budgeting in Belo Horizonte involves voting on eight major public works. And then, from the process, there is elaboration of a choice of 16, sometimes 20 choices. and then there is this big vote. And then, this has increased a lot participation, though it's a participation that many people are critical in the sense that it becomes very easy to vote, but the debate, the problem is also how to improve the quality of this debate. Yeah? So, in Belo Horizonte, for instance, in this major public works, around 150,000 people vote, which is close to 10% of the city population. So, it's a lot, but it's more topical. Yeah? The other meetings continue to be face-to-face interaction meetings. A third technology, and I've been involved in that lately, and we're trying to improve it, is for some of the national conferences, we have been organizing online debates before the conferences, to improve the debates. So, for instance, we just did that, our university, in Minas Gerais, before the national health conference that took place in late November of last year. There was an electronic platform with debates on the major issues. And then, there were, you could download talks with different positions, and then at a certain time, there would be an electronic debate on certain issues. But so far, we did not introduce decision-making in these electronic platforms, not because of technological limitations. We could, but it's not clear for us if we were already, if we have already reached a stage in which we could take this decision. but among the 2,000 delegates from the conference, I think that's 400 logged and 250 posted messages in the platform. Yeah? So, that's what we have so far regarding technology. ABIAS data. ABIAS data is, it's a very good idea, I'm not sure that it works very well so far, but it's the idea that individuals can have access to government data about themselves, and government data in general. Yeah? What do you do? Yeah. What do you do? Yeah. What do you do? Yeah. Yeah. At the Constitution, created the process of publicity. In many things, it happens. and it happens. For instance, if you take a public examination in Brazil to enter university, you can ask to see your test. And this has shown that many times, some of the tests were wrongly corrected. Yeah? So, you can ask for that. even at university level today, if there is an examination for the Master or for a PhD, everything needs to be public in a few weeks. Yeah? And people may have access to that. For example, the decision process. Yeah. But when it comes to decision process, that was what I was going to... When it comes to decision process and government, the courts have not been so liberal in granting obvious data. For instance, the Ministry of Foreign Relations argues that many of the policies cannot be publicized because it involves all the governments and this government demands secrecy. Yeah? Or, regarding the national budget, individuals can have access to a large part of the budget. And for instance, even credit cards used by public employees as a federal administration, after a few years, they will become public. And many scandals emerge after that because retroactively retroactively you see people going to very fancy restaurants with public money and other things that you can imagine. I agree. So... So these are the levels. Yeah? So, retroactively today, for instance, regarding expenses of the federal government, just the first tier of the federal government the credit cards are not public but even after sometimes they would be coming. Yeah? So, these expenses are submitted to understand. Do you also agree with the things that they do? Of course, I do. And I think it helps a lot in controlling corruption. Yeah? First of all. Yeah? And... I also... At the universe makes things for us a little bit more difficult but also more democratic. No one can just for instance say this guy is in, this guy is out and there is no criteria. Yeah? I don't know very well. I know that they exist and I know that this is a major project from the Ministry of Culture. They exist together with internet kiosks but I don't think that they have a broad effect on democratization of the access to culture. They exist in every city but in few places. Yeah? Yeah. I don't think that it's something very broad in the country that really democratized access to information and culture. Not so far. Yeah? Um... Qualification of the participatory process. Yeah? I think that this is really important and it takes place every participatory process in my view. you may want it to be very, very broad. At some level you will need representation and a certain sort of election of delegates in order to be more selective for the decision-making on specific policies. Yeah? And this has happened in all reforms in Brazil. for instance. Participatory budgeting has a participatory budgeting council. 44 people. Yeah? At least in Porto Alegre 44. Um... 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 this is qualification of the process. The councils, they all have what we call cameras techniques or technical chambers that will be in charge of specific decisions. So, for instance, when we discuss health policies in large Brazilian cities, one of the main issues is which kind of complex services will be available and where. Yeah? You cannot, for instance, in a city like Sao Paulo that has 196 sub-regions. You cannot have 196 complex services or complex services in all regions. So, this is a big debate in Sao Paulo because if you live in the downtown part of Sao Paulo, it may be 15-20 minutes from a very good health service but you can also live in the city of Sao Paulo for 2 hours from a complex service from a complex service and 2 hours and these 2 hours may be the difference between life and death. So, where to locate? So, there is this debate about democratizing the distribution of health services in the city but it cannot be located everywhere because there is not enough money. so what the city of Sao Paulo does and it emerges in debates in the health councils. It decentralizes services according to the average human development index. So, you make sure that cities that are less poor will have also complex services not only the cities in which the wealthy population lives. in every form of qualification you have certification and the problem is how you stratify participation. For instance, in a work that I did on participatory budgeting in early 2002 I pointed out that there was a gender certification that was very clear. where women participated more in the regional meetings but they were less represented in the council. Eventually the city introduced policies to make sure that women would not be less represented but this is an issue. Usually in Brazil the main element involved in certification is really years of education. We can see it. Years of education in Brazil is still very low. By the end of the authoritarian regime the average Brazilian had only 5.5 years of school in 1985. Today is 8. Improved but still very low given the developed standards although I think that we may be able to improve this very fast. But still I would say the major certification is people vote for delegates and counselors that have the same income but more education. Yeah? And this many times helps the qualification of the participatory process but still we need what we call capacitação in Brazil which is every person who is elected for a participatory process it goes to a course and this course is about health policy so it needs to be formed on what's going to decide about. Yeah? how many people participate in Porto Alegre the average participation is around 35 40,000 people per year in a population of 1.3 so in participatory budgeting participation is around 2.53% of population but the result is similar population is 2 million it's around 70,000 people so more or less the same amount in some processes that are less demanding we see more participation so for instance some of the conferences that Lula's government carried out between 2002 and 2010 got around 6 million participants in a population of 180 million so many Brazilians 41% of the Brazilians know about the conferences and around 12-13% of the population participated at some level of this process of course the majority at the local level again certification and we need to see what which kind of certification takes place but I would say that at the local level when a process is successful is 2-3% mi ha colpito quando lei ha parlato di un decreto del sindaco per avviare il processo partecipativo che non è legalizzato ma è aperto politicamente dal sindaco come se per dire a milano il sindaco di milano lanciasse una discussione di bilancio sui lavori dell'expo per dire chiedendo la popolazione erigendo diciamo come lei ha detto dei rappresentanti e formando dei rappresentanti a discutere dell'argomento fino ad arrivare a una decisione finale per esempio cioè l'impressione da quello che lei ha detto che il processo partecipativo in Brasile sia molto centrato su issue su grandi temi delle città che fanno discutere le persone le fanno portare poi a delle co-decisioni le decisioni partecipate ma non vanno a vedere la singola voce di bilancio o la singola spesa del più minuscolo assessorato ma non vanno a vedere grandi obiettivi mi sono sbagliato o è così? vuoi mettere insieme le domande? si velocissimamente sulla formazione a rispetto dei 5 anni poi nel mondo del lavoro formazione permanente è assicurata e l'altra domanda è il distretto finanziario nel mondo delle banche quale influenza ha nella proposizione e nella decisione dei piani urbanistici perché da noi diciamo che ha molta influenza è che la parola magica era project financing cioè tanto non ci costa nulla perché le banche hanno assicurato e cosa ne abbiamo stravolto dei pezzi di città perché a cavallo donato non si guarda in bocca io ho due domande allora nella prima nella prima si tratta della forma di ratificazione di cui ha parlato e vorrei sapere se ci sono le regole legali che dicono quanti abitanti devono partecipare perché un progetto si è accettato nel senso quante persone devono venire e partecipare qual è il quota delle persone che devono votare sì se ci sono delle regole che lo dicono e poi vorrei anche sapere perché ha detto che normalmente il 3% della popolazione partecipa per esempio in Porto Arlegre e vorrei sapere chi sono i partecipanti qual è la caratteristica sociale quali sono i profili di questi partecipanti se può dirci una o due parole su questo grazie Your question if I understood is people do not discuss the budget but they discuss what they want to be inserted in the budget yeah in this regard it's not exactly that but it's very close to that how the process starts in Porto Alegre or Belo Horizonte or in Recife which also has good participatory budgeting the first mayor or the the secretary of planning he goes and he tells the participants how much money they will have yeah so he releases the investment figure because participatory budgeting is mostly about investment figures yeah so he releases the investment figures for the participants given that that what there is financially is a negotiation among regions of the city because one of the main elements of participatory budgeting is that the regions of the city they negotiate how much public works they will have according to how much money they have in the past and how much access to public goods the region has so for instance access to public goods even in a city like Porto Alegre can vary a lot for instance some parts of Porto Alegre have 99% of pavement all the regions when participatory budgeting started had just 35-40% of its streets paved even sewage lines in Porto Alegre were very unevenly distributed public lightnings so the the financial negotiations are in between the regions and the participants from the regions and what Porto Alegre did is that it introduced technical criteria that is public access previous access to public goods and with this technical table that is very interesting I don't have it here otherwise I would show some regions can claim for less money than others and this is one of the ways that the public budget was made more even to all the regions but for a poor person who goes to a regional assembly in Porto Alegre it does not discuss the items in the budget but what he discusses is how many children will be enrolled in school how many doctors will be at the house post or how many kilometers of pavement are going to be made in that region or how many tons of garbage collection would be added to the existing capacity for Maxione for maybe urban plans in Brazil a little bit different I don't know because well the main issue when you make a city urban program in Brazil is a new region how much you're going to construct there another region whether it's already saturated or not and if it's saturated the city imposes heavy taxation on the construction and in other regions that are let's say underdeveloped and the city wants to develop which kind of incentives the city is going to give for construction these are the major issues what happened is the workers are not very much interested in debt but real estate developers are because decisions of the city master plan may make a lot of difference but real estate developers they don't like to go to public meetings because they don't want to argue they're going to well I'm holding this piece of land for 50 years and now I'm going to pay taxation on that no one wants to go to a meeting to make this point so what they did in Belo Horizonte Sao Paulo Portolevo real estate holders they constituted real estate associations and these real estate associations have lawyers and these lawyers speak very well and they go to the meetings and they try to defend these interests yeah it doesn't it doesn't work most of the time but the interesting thing is for instance in Sao Paulo there was a legal dispute whether a real estate company could qualify as a civil society association and it ended up the city didn't want but eventually the courts allowed so the city master plan had to be interrupted resumed after that or remade after that but in the end these lawyers they went and they lost almost everything that they claimed but still they can go to city council and then city council well you know the negotiations a little bit different yeah when you're a lawyer from a big real estate holder have other forms of influence than just talk yeah as we know so these are the main issues in the city master plan in Sao Paulo for instance city council changed some of the elements of the plan the city council changed the last minute in spite of the fact that it hasn't been approved in the public audiences yeah but still the plan was much better than what the city had before so I would say the participation helped the city to have a more progressive plan as you can imagine city like Sao Paulo has huge real estate interest depending on if you can construct 10 stories or 50 makes a lot of difference in the value of the land and this eventually becomes one of the issues that are involved in the city master plan ratification ratification with the law what Brazil did after the the chapter on urban planning of the 1988 constitution was to elaborate a more specific law called Estatuto da Cidade Estatuto da Cidade Estatuto da Cidade Estatuto da Cidade the statement of the city established lots of preconditions for public audiences and just to tell you case about Salvador in which the city master plan was cancelled city master plan Il plan è stato cancellato perché la città, che è molto turistico, commissioni un contratto per fare il city master plan e il city master plan è stato molto conservato e pro-hotel e turistica interessi e in fine, la città non potrebbe approvare il pubblico, quindi abbiamo fatto uno invece di due, e questo è stato in a holiday, in a day after a holiday, a ponte, a ponte, no one went e in the end it had to be senti a city council, non so, è stato approvato, ma è stato cancellato dal sistema judicial. E poi hanno fatto avere molti altri pubblici, quindi in fine, le chiedono di liberare il scezale del city per hotel construcci e non si non. That was the major issue involved. The law does not say a lot, but when it comes to the legal system, the city needs to defend itself saying that it did a reasonable amount of consulting, of evening. And this reasonable amount in the case of Salvador did not take place. Who is the average participant? In Porto Alegre it's very clear. The average participant is a woman, 53-54% of the participants. She's poor, but she's not the poorest person in the city. So, she's a poor person who makes about the average. She's about the average income in Brazil, which is for minimum wages, around 1,000 euros today. This woman, she has children. She is between 30 and 45. And she has more schooling than the average Brazilian woman, but not a lot more, between 7 and 8 years of school. So, this is the average participant. But this is not the average participant in councils, and this is not the average participant at the national level. As you go to councils at the national level, income and education increases. Yes? Yes? Any last questions? Can I ask one more? I've said that you've tried to consolidate the participation in the legislation. In what measure, a national level, as we have said in the Constitution, but also at the local level, or in other words, in other words, since we are in Milan, if we can learn from the analogous experiences to put in the Statute of a Comune an obligation to participate, so that, in the passage from an administration to another, that this commitment can remain? What's your opinion? Well, Brazil is a federation, and we have constitutions at the national and state level, and we have what we call, in English won't make sense, but maybe you understand that in Italian, Lei Organica Municipale. a sort of city law, that it's not the daily law, but it's very difficult to change. Most of the cities that do participation in Brazil, they have participation written in the Lei Organica. This does not mean that if you elect a very conservative mayor who wants to disempower the city, that they want to be able, but it's going to be more difficult. So, for instance, cities that have had more participation in Brazil, process of participation continued in spite of changes in administration. So, I would say that this is important, but in order for participation to continue, you need to have it really ingrained in the political culture of the city. And I'm just going to give you two examples. Porto Alegre continued with participatory budgeting after the Workers' Party was defeated. As a matter of fact that the election was very close, and one of the teams that emerged last week was participatory budgeting, and the opposition, in order to win, had to say, well, we're going to continue with it, and that's why they continued. They had to publicly declare that they would continue. In the case of city of Sao Paulo, that's more sort of left and right city, the Workers' Party governs, and then he's defeated, and then conservative people govern the city, and then the Workers' Party comes back. There was participatory budgeting during the Martin Suplicy administration, but it has been discontinued immediately after her defeat. So, and in the two cases, participation was inscribed into the law. So, I think that the right answer is, it's good to write into the law, but it's only going to continue if the citizen, the normal citizen, has it as something important that he wants to keep. otherwise, even if it's written into the law, mayors or other power holders would be able to discontinue. Thank you very much. Again? Thank you. Now we are slightly in retard, but not too much on the program. We have to start the second session at 4. visto che intanto il coffee break non c'è io direi di concederci perché non c'è il coffee c'è il coffee break ma c'è il break ma non c'è il coffee io direi di prenderci 10 minuti di interruzione di alzarci un attimo è ragionevole che ci ritorniamo alle 4 e 20 e cominciamo con la seconda sessione grazie ancora sto sempre più trasferendo la materia dalle logiche delle normative correnti che peraltro generano servizio quindi non è che sono del tutto inutili ai bisogni del sistema istituzionale di operare dove può e dove è guidato in questo senso perché non è mica una condizione generalizzata di operare sul deficit di democrazia generato dal deficit di dibattito pubblico non è che i media sono coercibili i media sono un territorio di libertà selezionano il 10% del notiziabile secondo il criterio giornalistico che è quello che fa notizia è quello che viene invaginato sui giornali come ho raccontato nei telegiornali il 90% del notizio è evidente che nel sistema mediatico c'è uno scartamento potente di tutta una fisiologia della notizia e di tutta una qualità del dibattito pubblico che qualcuno deve raccogliere però se non lo fanno le istituzioni che lo fanno le istituzioni avrebbero il compito di generare il dibattito pubblico co-decisionare attorno a ciò che i media non riescano a alimentare perché non lo fanno? non lo fanno perché si dice dal punto di vista diciamo più attormentato perché il tema non è costituzionalizzato ed è la ragione per cui la politica dove si esprime in maniera innovativa cerca di far fronte al bonus costituzionale cioè dire proviamoci lo stesso dico due parole prima di introdurre i due giovani redattori che porteranno dei contributi diciamo molto concreti la prima cosa la vorrei dire su Brasile con l'amico collega che ha parlato adesso io vado e vengo per Brasile e lavoro con il Stato di San Paolo su queste cose e ho trovato molto interessante le cose che ha detto adesso faccio una piccola archiosa che è la stessa che vorrei fare sul caso italiano offrendo poi il destra ai miei amici e anche gli amici politici a dire delle cose su questo in maniera più mirata la democrazia partecipativa o è scolpita nella Costituzione o va costruita con un duolo negoziato politico-sociale direi anche culturale per esempio lo dico perché forse di più non se lo ricordano ma quando l'Europa decise di costruire il trattato costituzionale nel 2004-2005 come qualcuno ricorda doveva contemplare diritti molto storicamente preservati come le costituzioni in certi paesi a grande storia democratica tra cui la Francia per esempio i paesi penetrati nel circolio della democrazia bassa salvaguardia dei diritti quindi cosa ha fatto il trattato costituzionale ha livellato il punto centrale dei diritti costruendo però l'innovazione tra l'innovazione c'era quella di dire il punto centrale delle premesse che cos'è la democrazia e l'articolo che riguardava questo capitolo si dividevano in due la democrazia è per una parte rappresentativa tu mi eleggi per 5 anni io faccio il mio mestiere poi il voto è libero a decidere se tu mi riconfermi o no ma la democrazia è parimenti partecipativa e cioè io ho obblighi di ascolto consultazione nel corso dei 5 anni e questi vengono proceduralizzati non due amici al bar che si trovano e certi dibattiti che comportano peso omere sociale hanno l'obbligo della dell'ascolto e della partecipazione come sapete il trattato costituzionale unica costituzione europea che dice questa cosa è quella portoghese forse non è un caso che il brasile era siccome quel trattato è saltato mica per il non vi è polonee è saltato perché negli inglesi e negli francesi volevano rinunciare al loro livello alto e quindi si sono tenuti con delle scuse il loro livello alto dei diritti e il trattato è saltato se no noi oggi dopo 5, 6, 7 anni avremmo un fortissimo punto di riferimento nel sistema del trattato costituzionale europeo e avremmo semplicemente obblighi applicativi non ci sono questi obblighi applicativi facciamo un cantiere facciamo sperimentazione dove la politica si prende diciamo la responsabilità di lanciare il cantiere ecco perché Milano adesso è interessante il Brasile allora la domanda che noi dobbiamo farci è perché il Brasile mette in movimento questo tipo di esperienze il collega può dirlo meglio di me perché lo sta facendo perché ci sono qua e là dei sindaci coraggiosi perché qui e là c'è domanda la sociale quindi ci sono le condizioni certamente certamente ci sono congiunture occasionali e territoriali che favoriscono questi modelli facciamo ragione in fondo del paese che è quella che spinge il paese come sapete a passare dall'ottava nona posizione economica mondiale alla quarta nel giro di pochissimo tempo il Brasile mette a calendario tra il 2014 e il 2016 un passaggio alle prime cinque economie del mondo un paese che non ha conflitto etnico che ha grandi materie prime che ha una popolazione forte ma anche snella rispetto ai grandi continenti che decide di diventare quarta potenza economica al mondo e deve trattare le materie prime ha il problema a chi velocizzare le decisioni e metabolizzarle a tempo stesso cioè non può che prendere decisioni difficili che riguardano la natura l'ambiente le infrastrutture tutte le cose che da noi fermano e bloccano il processo per delle ragioni giustificate perché la gente quando non capisce ferma e dice di no e quando la politica non ha il suo interesse dice di no e a furia di dire di no non si fa la crescita il Brasile cresce al 5% perché non perché c'è sì ma perché avrò anche un modo di codecidere quello di gestire i modelli di democrazia partecipativa dove le aziende i lavoratori la società civile i sindaci lavorano seriamente attorno a questi temi io ho visto un'azienda italiana che lavora sulle acciaierie funzionali alla nuova logistica del trasferimento del petrolio gigantesca questione naturalmente che infatta sull'ambiente prendere un coraggioso diciamo tentativo di un sindaco su dove sarebbe intervenuta questa crisi di qualità dell'ambiente e preparare 1500 cittadini ad affrontare i dossier che l'azienda portava ne radicarsi dando quel che dava in quel contesto io ho visto 1500 cittadini semplici di una piccola cittadina del sud del Brasile stare giorni e giorni su dossier che avevano studiato che avevano capito e su cui si confrontavano con un management di un'azienda italiana che doveva affrontarli con molta serietà la decisione è stata di radicare questo abilimento e di farlo a certe condizioni io lo ammirato e mi chiedevo mentre ero lì ma perché lo stanno facendo lo stanno facendo perché hanno deciso di viaggiare al 5% con la crescita e di fare tra tre anni prenderci l'imposto e quindi fanno benissimo a fare questo e lo fanno perché danno un significato economico diciamo economico e di sviluppo alla loro modalità la domanda noi ce la dobbiamo fare perché noi oggi in Italia a Milano abbiamo esigenze di fare laboratorio di partecipazione perché se noi pensiamo che il laboratorio di partecipazione sia un questione estetica della società non andiamo lontano siamo al tempo di giocata la cantiamo la partecipazione noi abbiamo bisogno di 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 guardare in faccia gli esempi ecco perché sono interessato agli esempi che anche i giovani colleghi di Pol perché bisogna capire dietro qual è la razza per cui istituzioni politiche corpi intermedi e cittadini sono interessati a stare al tavolo codecisionale avanzo due o tre semplicissime ipotesi una che il cittadino è importante perché il cittadino è dice dei nostri costituzionalisti è portatore esso stesso di cittadinanza attiva però noi in un deficit di politica come stiamo attraversando in un deficit strutturale dei partiti abbiamo interesse o no parlo di Milano a tenere in vita i corpi sociali intermedi l'associazionismo ci interessa o no tenere in piedi quello che per l'Europa è la condizione essenziale per stare in Europa avere società civile ci interessa o no perché se questo è l'obiettivo allora la partecipazione che ci interessa non è quello del singolo cittadino che manda una e-mail ma è come i corpi intermedi il sistema della rappresentanza degli interessi usiamo pure questa parola sa e lavora attorno alla partecipazione perché ci salva un pezzo strutturale della democrazia ho fatto un'ipotesi se poi uno dice che questa roba non ci interessa perché ci sono i partiti lo dica ma siccome noi a Milano abbiamo un modello impiantato in cui i partiti fanno formalmente metà del gioco perché l'altra metà dovrebbe fare la società organizzata il modello impiantato da Milano e dentro cui si situa questo laboratorio e altri deve rispondere a che queste due parti funzionino vogliamo che i partiti ci riportino più democrazia questa è la scommessa nazionale ci porteranno entro la fine dell'anno l'autoriforma i minori costi della politica la nuova legge elettorale le elezioni il metodo democratico con cui loro agiscono secondo l'articolo 49 della Costituzione se lo faranno la metà politica a noi ci interessa ma se non lo faranno ci rimane solo l'altra metà che è quella della società organizzata e allora noi dobbiamo consolidarla e i corpi intermedi ci interessano e i cantieri della partecipazione sono quelli che giustificano il consolidamento della interagliatura organizzativa della società ecco questo io volevo dire allora spero che Milano sugli stimoli di giornate come queste arrivi a dire ci sono 3, 4, 5 cantieri indelutibili per fare questa esperienza uno Milano la innescata è quella dell'ambiente perché il referendum votato in un certo modo adesso entra in attuazione e in attuazione si guarda con realismo e voi me ne accorgete la quantità di gente che ha detto ma io ho votato per il referendum perché credevo che riguardasse gli altri adesso riguarda me ma sono mica più sicuro beh questa cosa non la risolvi sui giornali la risolvi carando la questione pezzo a pezzo dentro la vita dei quartieri e costruendo adattamento e metabolizzazione su cose complicate adesso è l'area C e quando arriverà quella dell'apertura dei navidi partiamo allora l'ambiente mi pare che Milano l'abbia scelto direi che dovrebbe scegliere dircelo che il disegno della città metropolitana è cantiere di democrazia participativa me lo me lo aspetterei direi che l'Expo cominci a essere non più una questione oscura legata a interessi e strattonamento di notizie sui giornali ma di l'impatito della città e mi piacerebbe in qualche modo che i servizi pubblici che appassionano ma anche preoccupano fossero questioni di democrazia partecipativa aggiungerei il problema culturale di una città che deve misurarsi con una forte valenza multietnica con una forte problematica integrativa e con una questione del nostro abitismo di ritorno immensa non è solo fare il vernicaggio è anche gestire processi sociali e noi senza quello non facciamo cultura mi fermo lì mi basterebbe che questi cinque cantieri partissero nel corso di questa legislatura per dire che Milano per delle ragioni politiche generali perché è un modello che vuole rappresentarsi così al paese perché ci tiene a esistere politicamente usa la democrazia partecipativa non perché vogliamo diventare la terza potenza al mondo ma perché vorremmo esistere democraticamente tu finito adesso ascoltiamo Stefano Stortono l'Università Cattolica di Milano che riprende la battuta iniziale sull'esperienza di Canegrate dove è Canegrate? no ma dove so va beh lo chiediamo al sindaco di Canegrate verso l'area 25 km a nord di Milano verso l'area sopra e adesso l'abbiamo situata Legnano e su questo facciamo un ragionamento a te allora allora buon pomeriggio a tutti cerco di essere brevissimo con i tempi speriamo e approfitto di questa posizione per ringraziare pubblicamente il professor Alvitzer per aver accettato l'invito se me lo permetti è il mio maestro diciamo di dottorato perché io ho fatto riferimento ai suoi testi diciamo che lui che mi ha aperto il maestro e lui diciamo che mi ha aperto il fantastico mondo del Brasile e mi ha fatto comprendere bene che cosa significava la partecipazione e qual era l'implicazione anche a livello istituzionale politico e sociale diciamo che dal contorato ho fatto una tesi sul bilancio partecipativo di Pontale che poi ho avuto così tanto passione per questo tema di volerlo mettere in pratica e quindi ho avuto la fortuna di incontrare un'amministrazione virtuosa e saluto anche qui ringrazio il sindaco che ci ha permesso di sperimentare quelli che erano alcuni concetti principi della base del bilancio partecipativo e la libertà diciamo l'intelligenza diciamo di questa amministrazione di lasciare lavorare un processo di farli lasciare lavorare è stato positivo perché ha portato a dei risultati che noi vedremo e io sono abbastanza netto quando faccio gli interventi nel senso che vado subito a soldo cioè diciamo questa presentazione è frutto di due anni di esperienze in una città e quindi dove abbiamo sperimentato certi meccanismi e quello voglio subito tagliare a testatore dicendo che la partecipazione è decisione si parla di partecipazione quando si parla di open data si parla di consultazione si parla di trasparenza di informazione sono elementi della partecipazione ma fino a quando non si arriva a concepire la partecipazione come decisione siamo a livello un gradino più basso e sicuramente non si raggiunge quel livello di empowerment che è l'obiettivo della partecipazione cioè costruire una democrazia una cultura democratica se i cittadini non hanno non percepiscono che contano realmente ma sono soltanto consultati viene chiesto un parere la partecipazione non esplode ed è quello che è successo a Canegrate devo essere molto breve con i tempi però visto che è stato stampato un report una bolsa di report che spiega un po' tutto il processo quindi la vedete tutti in mano e potete approfondirla eventualmente però giusto per andare a sodo ma già sostanzialmente sto ripetendo quello che ha detto il professore precedentemente Leonardo è che il bilancio partecipativo se si prova una definizione molto sintetica è un processo istituzionalizzato non formalizzato necessariamente formalizzato però strutturato e non sporadico attraverso il quale i cittadini individualmente attraverso le proprie forme di aggregazione decidono direttamente come spendere le risorse pubbliche le risorse del bilancio pubblico ovviamente ci sono tante forme di bilancio partecipativo dell'Italia e sperimentate un po' nei primi anni del 2000 quindi sappiamo molti di noi magari conoscono un po' le esperienze di bilancio partecipativo però quello che abbiamo provato a sperimentare a Canegrati per un progetto pilota si basava su un metodo su un metodo che era quello appunto che appartiene la prima esperienza era di bilancio partecipativo che è quella di Portarelle l'introduco che il professore ha detto il professor Ravis ha detto inizialmente che ci sono diversi gradi di partecipazione perché ci sarà una società civile forte una forte volontà politica e quindi non si può prendere in blocco un modello e introdurlo in un'altra realtà sociale e culturale quello che noi abbiamo fatto su Canegrate è una cosa simile cioè non abbiamo fatto un diverso grado di partecipazione ma abbiamo fatto un diverso grado di potere decisionare in termini di risorse cioè abbiamo detto ai cittadini voi decidete con un metodo particolare però decidete su una parte piccola delle risorse perché ovviamente è una questione democratica per cui essendo un progetto sperimentale è bene partire con poche risorse che appartengono alla collettività e quindi man mano cercare di aumentare il potenziale partecipativo quanto più la cittadinanza è abituata ad entrare in questo processo partecipativo quindi una gradualità in questo caso legata non tanto alla tipologia di forma di partecipazione ma legata proprio a quanto si decideva e questi erano i pilastri su cui si basava il bilancio partecipativo di Canegrati che in questo momento è in stand by però vedremo che ha avuto i suoi frutti e cioè il primo punto che noi avevamo indicato come associazione che sviluppava questo processo organizzava questo processo era la certezza deliberativa cioè noi avevamo chiesto all'amministrazione che quello che usciva il risultato che usciva del processo di bilancio particolativo fosse tradotto in realtà quindi realizzato senza se senza male quindi c'era questo aspetto fondamentale altro aspetto fondamentale la chiesa economica cioè i cittadini dovevano sapere di cosa stavano parlando di cosa stavano andando a decidere e questo perché perché il primo anno si può dire che a me è storia diciamo il primo anno era stato organizzato un processo molto blando che si basava su una consultazione diteci cosa volete in generale senza nessuna conoscenza del bilancio senza nessuna conoscenza di quante erano le risorse dell'amministrazione e come funzionava l'amministrazione ti dice cosa volete noi pensiamo vediamo come sistemarlo a bilancio sostanzialmente l'ha già provato e quindi questo era il primo anno e infatti il primo anno è stato un impatto una sofferenza perché i cittadini erano sparisati non sapevano appunto cosa potessero proporre e quindi la chiarezza economica è un altro pilastro del secondo anno abbiamo deciso anche poco 100.000 euro però basta che i cittadini sanno quali sono le risorse per cui vanno a decidere e che quello che poi decideranno sarà realizzato e altri principi fondamentali che sono quelli di auto-organizzazione e di aggregazione cioè il processo di partecipativo non deve essere un processo aggregativo o di consultazione referendaria per cui individualmente si chiedeva cosa volesse o cosa non desiderasse ma il meccanismo stesso del bilancio partecipativo desse uno stimolo ai cittadini per unirsi quindi la logica era fatto 100 le risorse se ci uniamo riusciamo ad ottenere il finanziamento della nostra proposta tradotto significa se riusciamo a implementare un progetto condiviso della cittadinanza questo verrà realizzato altrimenti noi perdiamo di fronte a chi si organizza e a esprimere un'istanza più condivisa e l'universalità la facilità la felicità le neutralità erano aspetti e altri aspetti fondamentali perché un processo democratico se è un sistema politico della cittadinanza non può essere difficile non può essere soltanto per poche persone quindi l'aspetto della felicità e della facilità devono essere centrali da qui magari appunto il processo semplificato è sostanzialmente cercare di garantire che tutti partecipassero la neutralità è un altro aspetto e cioè un altro aspetto l'avamo chiesto all'amministrazione è che ci fosse assenza di discrezionalità cioè che l'amministrazione entrasse nelle regole del gioco come un giocatore come un normale cittadino quindi il sindaco contava uno tanto quanto il suo elettore con le sue proposte e un altro minastro era questo diciamo di un diverso grado di partecipazione è normale che quanto più diventa complesso il grado di partecipazione quanto meno sono le persone che partecipano quanto più è semplice la partecipazione quanto più le persone partecipano la differenza che abbiamo sperimentato a Canegra è che se si doveva fare una proposta erano poche le persone che partecipavano se si doveva scegliere tra le diverse proposte la partecipazione era doppiana in termini proprio numerici e quindi questo è un altro principio che ci portava appunto su cui si basava questo progetto e che in pratica poi è un aspetto tempo non lo consente però è un aspetto che poi è alla base come diceva il professore dei bilanci partecipativi dove c'è anche un grado di rappresentanza no? dove sono dei consigli di bilancio partecipativo dove si diciamo vengono le ente delle persone della società civile e sostanzialmente il processo è semplicissimo si basa su tre fasi quello di Canegrate la raccolta proposte l'elaborazione delle proposte e la votazione delle priorità ovviamente al progetto pilota risorse poche risorse si iniziava da zero e quindi la cosa doveva essere il fatto più semplice possibile l'obiettivo era quello di portare questa buona rivella questo messaggio questa nuova forma di democrazia a quante più persone possibili per poi successivamente inserire un grado di complessità maggiore nel processo e quindi sostanzialmente si chiedeva ai cittadini individualmente di compilare quella scheda che vedete qui che era sia cartacea abbiamo fatto porta a porta a tutte le case della città sia online quindi si poteva anche votare a fare la proposta online e ai cittadini si chiedeva fate le vostre proposte sapendo già che c'è un principio di fondo che le proposte che già più condivise quindi come una sorta di raccolta firme quelle che goderono già di maggiore consenso sono quelle che poi passavano la fase di votazione questo perché per evitare che le proposte nascessero dall'amministrazione pubblica ma fosse un processo dal basso verso l'alto quindi creare questo movimento dal basso per cui i cittadini ti dicevano quali erano le necessità quindi da una parte si creava le proposte che poi sarebbero state realizzate ma dall'altra era anche un modo per l'amministrazione per avere una mappa dei bisogni e delle necessità della cittadinanza prima o secondo anno avevano ci per raccogliere 660 proposte dalla buca di fronte al proprio cancello fino alla strada completamente distrutta dalla periferia quindi diciamo l'amministrazione in questo modo aveva anche delle informazioni in più l'elaborazione delle proposte era in pratica si basava su dei criteri di neutralità per cui le proposte più condivise e che avevano una fattibilità tecnica nel senso di sia di che fosse possibile realizzare in termini economici e legali e che fosse condivisa quindi non c'era una scelta per cui parte delle proposte cittadini l'amministrazione le prendeva e diceva beh faccio questo faccio quest'altro no c'era un meccanismo per cui i cittadini sapevano già che se con determinate regole la loro proposta sarebbe stata realizzata per arrivare alla terza fase che è la dotazione delle priorità le proposte che hanno passato questa fase di filtro di elaborazione quelle più condivise sono state inserite in una scheda e i cittadini semplicemente poteranno prendere la scheda e scegliere quella che ritenevano prioritaria per quell'anno con diverse modalità e differenze che abbiamo fatto tra un anno e l'altro per cui l'anno successivo abbiamo fatto votare due proposte differenti di peso economico diverso per evitare che le proposte anche micro o di una zona potessero soccondere rispetto alle proposte delle necessità di carattere cittadino però il principio era questo sostanzialmente e questo imposto nei risultati per cui uno può dire beh insomma processo è una schifezza però di fronte a questi risultati noi ci siamo fatti un pochettino grandi ovviamente non si tratta di una partecipazione come fisica nel senso che noi abbiamo optato per una facilità per cui abbiamo detto non è il cittadino che deve venire nel comune ma il comune che deve andare dal cittadino e quindi significa che non abbiamo puntato sulle assemblee perché puntare al primo anno da una società italiana che non si muove più dal divano da secoli da decenni puntare all'assemblea sarebbe stato proprio il fallimento il suicidio di un progetto partecipativo e quindi abbiamo detto beh siamo noi che andiamo nelle case di cittadini questa terminologia non è più però sostanzialmente in questo modo siamo riusciti a raccogliere già questo è il primo anno di un minuto di non come c'è stata questa consultazione il primo anno in cui noi eravamo inesperti come associazione quindi la colpa non è solo l'amministrazione diciamo una inesperienza Porta Alegre si basava molto sull'inesperienza dell'amministrazione che governava per la prima volta e che è stata proprio l'inesperienza il punto di forza del bilancio partecipativo perché grazie a quella inesperienza è stato inventato il processo nuovo e tant'è vero che il secondo anno con questo con questi pilastri con questi pilastri sostanzialmente secondo siamo riusciti a raggiungere mille cittadini in termini assoluti quindi tra prima e seconda fase quindi tra proposte e fase di votazione come vedete già la fase di proposta 426 cittadini avevano partecipato e la fase di votazione aumentava ovviamente così la cosa è diventata molto più evidente nell'ultimo anno scorso anno quando 650 cittadini hanno continuato le schede per proporre e 1300 addirittura hanno votato tra le proposte che erano passate all'ultima fase di ovviamente come già potete notare si vede qual è il tasso di partecipazione durante le assemblee è rimasto stabile a un 60 100 cittadini nel senso che 60 erano i votanti con 20 30 erano magari amministratori che non volevano votare e persone esterne questo diciamo un po' i risultati queste erano le proposte che sono passate alla fase di votazione nello scorso anno e ho messo questa slide un po' per fugare ogni dubbio su chi ha paura della partecipazione molto spesso gli amministratori non vogliono far partecipare i cittadini perché hanno paura di quello che decidono e se decidono qualcosa che va contro il nostro paramo se decidono qualcosa che non siamo d'accordo e siamo obbligati a mettere in pratica e quindi questo è un buon freno per la classe politica di cedere le quote di sovranità e queste erano semplicemente le proposte che sono emerse senza nessun coinvolgimento senza nessun grado di influenza da parte della politica e di nessun altro la manutenzione del campo sportivo nuove arrede la scuola primaria divise nuove strumenti nuove per il corpo musicale la manutenzione della stazione e la manutenzione del centro di giovanile è una cosa si potrebbe raccontare dieci minuti per ogni proposta perché ogni proposta di la cosa più inversiva che c'è stata tra le proposte erano le telecamere in stazione per evitare che fosse deturpato la morte quindi la cosa più inversiva però in ogni caso ogni proposta ha dentro di sé un aspetto particolare che è legato a quel pilastro che è creare capitale sociale creare aggregazione creare unità tra i cittadini ad esempio divise gli strumenti del corpo musicale cittadino ha trovato unite diverse associazioni che alcune associazioni hanno votato per la proposta che era specifica di una singola realtà così come gli eredi per la scuola primaria hanno trovato in quel momento la nascita di un comitato di genitore che aveva il primo punto dell'ordine del giorno il progetto scuola partecipa quindi partecipare al bilancio partecipativo questo per dire come le istituzioni partecipative riescono a essere uno stimolo alla creazione di capitale sociale così come queste erano le proposte di zona e anche qui vedete i progetti vincitori questa è un'altra cosa carina che tra le cinque proposte per la città il progetto vincitore più votato è stato quello che non aveva dietro di sé un'associazione quindi un gruppo di interesse o un gruppo forte nella società ma semplicemente due cittadini che hanno espresso un bisogno reale di una cittadina di una popolazione e si sono stati in grado di esprimere di portare a una fase di voti così come il parco gioco e le cascineppe che era un parco gioco in un quartiere in via di sviluppo vicino a una scuola questo è un piccolino slide di Porta Alegre per dire in termini di valori ampi cosa significa un processo partecipativo cioè una ridistribuzione della ricchezza delle risorse sostanzialmente o lo sviluppo di una democrazia sostanziale non necessariamente formale un aspetto che mi interessava molto di Porta Alegre la domanda della mia della mia tesi era come è possibile che l'1 o il 2% dei cittadini riesca a godere di un consenso in termini di legittimità di output di risultati superiore al 70-80% della cittadinanza che era il consenso che c'era attorno alla bilancia di partecipazione di Porta Alegre e questo è un pochettino quello che mi ha incuriosito ed era legato secondo il mio parere al processo che coinvolgeva la società civile nelle sue istanze e nei singoli progetti piuttosto che nel programma ideologico di una campagna elettorale e un altro aspetto carino è quello dell'informazione della trasparenza per non lasciare nulla insomma perduto per strada cioè con questo bilancio partecipativo noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato modo anche i cittadini di comprendere come funziona l'amministrazione perché assieme alla guida in cui si spiega il processo si spiega anche i tempi e i metodi di realizzazione dell'opera che loro stessero realizzato questo perché molto spesso i cittadini che non conoscono i tempi burocratici le procedure burocratiche si lamentano di cose che la cui colpa non è dell'amministrazione per cui dicevo la palestra viene votata perché domani non partono i lavori con queste informazioni qui i cittadini si educano o comunque vengono informati di come funziona la macchina amministrativa e possono valutare in maniera più trasparente corrente e cosciente anche l'operazione della propria amministrazione arriviamo un po' alla fine questo è una piccola nota di orgoglio perché per dire dopo Canegrati che cosa stiamo facendo adesso per dire anche un po' per chiedere anche il supporto di tutti anche per che sia uno stimolo per la città di Milano per tutti abbiamo avuto diverse opportunità di poter parlare di questo processo mancano un paio di minuti di questo processo come l'evento di Roma Scienza la scuola di altre amministrazioni la fondazione Fano Lutra School per il terzo settore della fondazione Fortes così come essere oggetto di una ricerca internazionale coordinata da un centro di studi spagnolo e l'università portoghese così come il famoso prima comune che è già citato e per dire che dopo Canegrati che è in questo momento di stand by perché sono le elezioni questo maggio adesso grazie all'esperienza di Canegrati grazie all'operato di una sola amministrazione seppur piccola siamo stati contattati e a marzo partiranno due progetti di bilancio partecipativo una c'è è una cascina provincia di Pisa dove il progetto è stato addirittura finanziato dalla stessa regione toscana che ha una legge che finanzia i processi partecipativi e dove appunto anche grazie un po' a maggiori risorse a maggiori contatti con altre realtà universitari siamo riusciti e questo è un altro aspetto che ho messo per l'infine la provincia stessa di Pesadolvino quindi per chi dice che non si può fare partecipazione sopra diciamo sopra un numero basso di cittadini diciamo vediamolo a fine anno quando svilupperemo questo processo che coinvolgerà tutta la provincia su un budget ristretto legato ai fondi e alla cultura però seppur questo questo ci ha portato un po' ad incrementare un po' gli strumenti quindi alzare un pochettino il tiro aspetto a un progetto che aveva come software i fogli Excel sostanzialmente come Data Base che è quello appunto di introdurre degli aspetti fondamentali che sono gli aspetti di rappresentanza quindi per cui la progettazione viene affidata non tanto all'amministrazione ma agli stessi cittadini che fanno la proposta quindi l'amministrazione si unisce ai cittadini nel caso di Cascina abbiamo un mix tra un campione rappresentativo per evitare di far prevalere di preghi organizzati per bilanciare così come i promotori che possono nominare dei delegati che all'interno di quel tavolo decidano come sviluppare con quali costi eccetera i progetti che poi hanno proposto con interazione di uffici comunali così come iniziare a fare un discorso insieme alla rete civica di Milano sulle piattaforme quindi diciamo questo getto un ponte per eva che poi ci parlerà degli strumenti di partecipazione online perché sostanzialmente quando il numero aumenta di cittadini è necessario è necessario sfruttare la tecnologia quindi così come fino a quando c'era il telefono usare il telefono adesso che c'è internet non si può non usare internet così e magari prendere spunto da diverse esperienze nel mondo come magari in New York a Chicago in Portogallo e ovviamente in Brasile più solamente però diciamo questo è un piccolo accenno a quello che diciamo era il titolo anche dell'intervento perché quello che volevamo sperimentare anche in termini accademici è se innanzitutto sfruttare diciamo quest'onda di ritorno a buona democrazia per implementare gli strumenti della partecipazione vedere se il bilancio partecipativo che ha come peculiarità quella di far discutere i cittadini su delle risorse ristrette quindi non sui principi non sul sesso degli angeli per farla breve ma su delle cose concrete come questo possa magari aumentare la concretezza della partecipazione online l'unico chiudo per ritornare al discorso di prima se la partecipazione appunto si può cioè se io quando sento parlare di partecipazione che non è decisione un pochettino mi altero un po' perché se si vuole parlare di decisione questo è un buon invito agli amministratori presenti non lo si può fare se non lo si può non lo si concepisce in termini decisionali è un metodo ed è soprattutto una mentalità perché solo la mentalità ti porta ad avere tanta volontà per sviluppare quella che è un'invenzione democratica si è definita da un ricercatore da un professore di brasiliano un'invenzione democratica la democrazia va in un processo sociale di invenzione e va ovviamente costruita e il bilancio partecipativo dal nostro punto di vista è un approccio diverso alla democrazia un approccio a una mentalità diversa non è di delega ma di coinvolgimento maggiore non è di votazione di voto per persone o per programmi ma voto per singoli progetti per priorità proprio una concezione diversa e questo appunto magari spero che questa conferenza sia un invito a approfondire e poi mirare questo tema importante per chi vuole essere mai in contatto abbiamo creato questa pagina facebook del bilancio partecipativo dove periodicamente magari mettiamo qualche notizia o su casi magari notizie sparse nel mondo così poi magari persone che stanno facendo ricerche vogliono materiali quindi un modo per rimanere in contatto su questo tema grazie mille e scusarmi per il secondo un minuto un minuto supplementare noi anche ai dottoranti non solo ai laureanti diamo qualche punto in più ah scherzo diamo qualche punto in più quando fanno un pezzetto di come si dice di osservazioni critiche cioè quando prendono un caso più lodevole e dicano queste due sono le maggiori criticità e questo è il buco nero che io ho trovato io questa cosa vorrei sentire ha l'esperienza raccontata il buco nero il buco nero è la criticità allora perché se no troppo va beh allora la criticità maggiore è le risorse nel senso che adesso quando abbiamo diciamo parliamo con gli amministratori la prima cosa che si la prima cosa l'ultima cosa che si chiede è quali sono le risorse cioè non c'è un dai fare per cui dice se tu hai 100 lo si fa se no non si fa si ha un euro si fa un euro cambia il tasso di il grado di volontariato delle persone e gli strumenti a disposizione questa è una criticità forte l'altro ovviamente è una è comunque sempre un'assenza di una cultura quindi bisogna lavorare sodo perché per sopperire a quello che poi dovrebbe essere un processo naturale mi spiego il primo anno era di un due a fare volantinaggio quindi immaginate due persone che devono coprire un bacino di 13 mila persone perché nessuno aveva conoscere il processo e nessuno aveva l'interesse lo stimolo di portarlo al vicino di casa o al vicino di banco secondo anno abbiamo cominciato a coinvolgere la società civile nelle consulte i consulte presenti nell'amministrazione come dire i nodi di una rete andiamo a intercettare i nodi perché poi loro riescono a diffondere questo processo e quindi questo è un aspetto della gradualità cioè bisogna fare comunque uno sforzo immane per cui la volontà politica è forte cioè deve essere forte altrimenti non so se ho risposto alla domanda ci dovrei pensare un po' fa nessun problema di modello di rappresentanza cioè passa tranquillamente l'idea che la democrazia è che c'è allora io questo non lo voglio affrontare questo tema allora il problema forte che c'è nei bilanci partecipativi è una sorta di un'aspetto di vasi comunicanti cioè il potere decisionale è 100 se 50 si sposta da una parte altri 50 sono un po' scontenti o comunque in ogni modo questa cosa riguarda magari la rappresentanza politica ma quello c'è la pire come? esatto infatti uno dei problemi culturali è questo i cittadini stessi il primo anno dicevano perché devo decidere io io ho votato il sindaco l'amministrazione perché faccia i miei interessi è un problema forte culturale a livello numerico è ovvio è un progetto noi abbiamo sempre definito un progetto culturale non è un progetto di democrazia completa un progetto culturale dove l'amministrazione responsabilmente mette a disposizione delle risorse e per sviluppare un progetto che può essere sia l'assistenza ai disabili o a serenito così come la partecipazione non è un modello non è un modello democratico è un modello formativo no perché questo è l'inizio è un progetto culturale se noi lo so però se noi arriviamo a un livello per cui come si fa nei modelli strutturati il bilancio partecipato dove ci sono anche elementi rappresentativi allora io cittadino cioè so che il primo anno mi votano 10 domani 100 ma nessuno mi esclude che il primo domani possa votare tutti chi lo escluda è soltanto la volontà politica di bloccarci appunto il processo oppure far sì che essi arrivi a un punto per cui votino tutti i cittadini e a quel punto è democratico no? sento la voce dei costituzionalisti che muoreggia sono vecchi ma ce ne sono anche di giovanissime prego posso un po' una pisma nell'ottica nell'ottica appunto della partecipazione l'importanza maggiore la fa l'informazione perché comunque per partecipare un cittadino deve essere anche giustamente informato su quali sono le possibilità di scelta penso che qui debba intervenire la politica e cambiare lotta no senso che la politica deve dare la possibilità ai cittadini di avere gli strumenti per valutare ogni tipo a Cannegrate c'è una popolazione di 12.300 a Milano ce n'è una di un milione e trecentomila persone voi come partireste a Milano io le ho detto che io preferirei partire dai corpi intermedi cioè dal sistema associativo perché perché non voglio fare l'emodologia ma questo è che io sono un conservatore però la facciamo dopo la discussione abbiamo puntato due argomenti e passiamo abbiamo poi alcuni interrogatori tra cui l'assessore qua presenti amici politici quindi poi facciamo un dibattito per l'altro dando la parola a Eva che è più facile chiamare Eva scusate in realtà si chiama perché io sono in quattro d'ora no no io me lo sono scritto in un certo modo e quindi sono in grado di dire che si chiama Schaupaya Schaupaya scusso cioè quando i politici devono essere eletti e fare rifondazione istituzionale i social network in ascesa sono grandi strumenti partecipativi una volta che si gestisce l'istituzione si svuotano i social network si svuotano le ragioni di presidio si trovano ragioni dentro questioni che riguardano la privacy piuttosto che una delle cose ma tre quattro le istituzioni europee denunciano criticità poi il cittadino sta lì vuole interagire e tu non sai più come e perché lo devi interagire primo tipo di criticità secondo tipo di criticità questo lo dicono i costituzionalisti ma lì non si fa la democrazia si chatta e chattare nei social network vuol dire radicalizzare il favore e lo dissenso in una maniera troppo semplificata per essere democratica questi due argomenti sono due pari piantati su come noi valutiamo la ipatis prego grazie professore allora io mi presento mi chiamo Eva Chompavajamorska il mio nome può essere difficile per voi lo capisco bene sono polacca e sono dottoranda in scienze politiche all'università di Sorbona e prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questo workshop di m'avere invitata soprattutto per la decine all'università di Milano ma anche il comune di Milano sono molto felice di essere qui con voi e di poter presentare un pezzettino della mia ricerca che in generale porta sulla partecipazione in Francia e in Italia a livello locale allora mi interesso agli spazi di dibattito pubblico e al modo in cui sono messi in piedi come funzionano eccetera allora per fare una breve introduzione della mia persona io ho studiato prima a Varsavia in Polonia ho fatto la piena in sociologia e scienze politiche poi mi sono lavorata nel 2009 alla Sorbona in scienze politiche sempre e ho anche fatto il master in comunicazione numerica e adesso sono dottoranda a Varsavia e l'anno scorso come ha detto il professore ho fatto un soggiorno di ricerca a Torino e in questo contesto ho conosciuto Fiorera De Cinglio e mi sono interessata molto al progetto che è stato lanciato dalla Lette Civica di Milano il progetto Comunale Milano 2011 e vorrei ringraziare tutti che mi hanno aiutato in questa ricerca Laura Fiorella ma anche altri membri dello staff della Lette Civica Milano ovunque Ronaldo Sonnante Oliverio Gentile Giulia Bertone Mario Santese e tutto perché mi hanno aiutato molto nel senso mi hanno dato l'accesso ai dati mi hanno guidato un po' in tutto questo in cui si trattava del contesto di queste elezioni la mia presentazione come scritto sullo schermo è dedicata a uno strumento a uno spazio sviluppato all'interno del sito Comunale Milano 2011 lo spazio che si chiama problemi e proposte e lo tratterò come uno strumento che può servire per raccogliere l'intelligenza civica allora Civic Intelligence Prima di tutto vorrei dire che questo che osserviamo recentemente un fenomeno in crescita internet permette di sviluppare tanti spazi che ci che ci permettono di raccogliere la voce cittadina i cittadini possono esprimersi sulla rete per per esempio mostrare dire alle istituzioni politiche quali sono i problemi della loro località e questi sono due esempi degli spazi così allora il primo esempio è FixMyStreet un sito web inglese in cui i cittadini possono dire che ci sono i problemi nella loro località possono per esempio segnalare i problemi come i buchi nella strada i problemi di manutenzione e allertare in un modo le istituzioni di amministrazione pubblica per farle agire reagire l'altro sito è Iris il sito che è stato lanciato a Venezia e lo scopo è lo stesso nel senso che i cittadini possono allarmare le istituzioni pubbliche per farle reagire contro un problema che è stato osservato anche durante le elezioni comunali del 2011 tanti siti di questo tipo sono stati lanciati il primo sito si chiama Idario per Cagliari e l'altro di cui vorrei parlare è Crema Siamo Noi la differenza tra questi siti e quelli di cui ho parlato prima è che questi siti sono le iniziative del basso sono stati portati e lanciati dalle associazioni e dai giovani che volevano effettivamente aprire degli spazi per i cittadini perché i cittadini possano esprimersi e parlare sulla rete un'altra grande differenza tra questi siti e i siti di cui ho parlato prima è che su questi siti lo scopo era un po' diverso nel senso che i cittadini non dovevano segnalare i problemi che hanno osservato ma dovevano formulare delle idee delle proposte per per migliorare per migliorare la vita nella loro città e un altro sito di questo un po' di questo tipo è effettivamente il sito Comunale Milano 2011 di cui io parlo adesso nel contesto della mia presentazione ma vorrei mettere l'accento sul fatto che questo sito è in modo importante diverso dagli altri siti di cui ho parlato precedentemente non è lo stesso che i siti come Iario per Cariari oppure Cremasimo Noi non è neanche il sito di tipo Fix My Street perché allora adesso spiego questa particolarità del sito allora questo che si deve dire è che problemi e proposte è uno spazio sviluppato all'interno di Comunale Milano 2011 per effettivamente raccogliere i problemi osservati dai cittadini ma anche le proposte allora prima i cittadini sono incitati a segnalare i problemi allora il disfunzionamento che hanno osservato nella città abbiamo qui un esempio di un problema segnalato sul sito e poi possono anche formulare delle proposte allora proporre delle soluzioni legate a questi problemi e abbiamo anche un esempio perché questa differenza è così importante dal mio punto di vista perché i cittadini non prima non segnalano solo un problema e non delegano la risoluzione di questo problema alle istituzioni politiche come nel primo caso dei siti tipo Fix My Street neanche non non fanno delle proposte astratte nel senso non parlano in un modo molto generale della loro visione della gestione della città ma devono formulare delle proposte legate ai problemi veramente osservati e questo si vedeva nel design dello spazio di cui sto parlando perché un utente che voleva formulare una proposta doveva formularla doveva segnalare a quale problema questa proposta è legata allora prima doveva esistere sul sito già un problema osservato e poi l'utente poteva formulare una proposta oppure l'utente ovviamente poteva prima mettere un problema sul sito e poi formulare una proposta di come si può risolvere questo problema secondo me questa particolarità del sito dello strumento di cui sto parlando problemi e proposte spiega bene perché sono qui adesso perché questo workshop è dedicato ai bilanci partecipativi io non mi occupo in questo caso di un bilancio partecipativo ma Stefano ha detto giustamente che il primo momento importante del bilancio partecipativo è effettivamente la raccolta delle proposte e questo che era lo scopo dello strumento di cui sto parlando questa prima fase del bilancio partecipato che è stata sviluppata in questo caso un'altra idea che è stata anche analizzata da Stefano è che in questo caso si parla delle cose concrete non si parla delle cose astratte non si parla delle idee grandi generali ma si parla effettivamente si può discutere in questo caso delle cose che sono più concrete concretizzate secondo me un'altra feature importante di questo strumento è che le proposte potevano essere discusse non si trattava solo di formulare e pubblicare sul sito delle proposte ma anche di creare uno spazio per il debattito attorno di queste proposte allora gli utenti potevano valutare una proposta in tre modi diversi il primo modo era più quantitativo più quantitativo di tutti allora un partecipante poteva cliccare su una piccola icona pollice su oppure pollice giù e in questo modo valutare una proposta esprimere un accordo oppure un disaccordo e questo modo di valutazione era anonimo nel senso la persona non diceva io mi chiamo così e sono sostenitore di questa proposta invece la seconda possibilità di valutazione era effettivamente la possibilità di sostenere palasemente una proposta nel senso che un utente registrato metteva la sua faccia dicendo io sono sostenitore di questa proposta e secondo me questa possibilità era molto importante nel contesto delle elezioni comunali perché sul sito c'erano anche i candidati che erano presenti allora se mai un candidato per esempio si portava sostenitore di una proposta un elettore eventuale di questo candidato poteva pensare ok allora vuol dire che questa proposta può fare parte della visione della città di questo candidato in questo modo i candidati potevano anche spiegare meglio il programma in modo molto più concreto il programma politico che rappresentavano la terza possibilità di valutare una proposta era molto più lunga molto più complessa si trattava di argomentare pro o contro allora gli utenti potevano formulare spiegare perché sono pro o perché sono contro una proposta ho detto che questa possibilità questo modo di valutare una proposta era il più complicato è vero però nella ricerca ho visto che era anche il modo più utilizzato più utenti hanno utilizzato la possibilità di argomentare che di fare pollice giù oppure pollice su allora vuol dire che non è tanto vero questo che diciamo molto spesso della rete che la partecipazione nella rete è un po' piatta nel senso un po' un po' automatica che uno va e clicca solo su una icona e che si tratta solo di una valutazione per la quantità in questo caso gli utenti preferavano esprimersi allora solo per fare un piccolo una piccola analisi del contesto di questo strumento come ho detto è stato questo strumento proprio di proposte faceva parte del sito comunale di Milano 2011 allora il contesto importante è che questo sito è stato lanciato per il periodo elettorale il sito è stato aperto in giugno 2010 è creato per il periodo specifico e limitato nel tempo lo strumento problemi promoste è stato aperto un po' più tardi in ottobre 2010 ma questo che è importante è perché questo tipo di strumento questo tipo di sito è stato lanciato in questo periodo dobbiamo dire che la partecipazione è stata analizzata dai scienziati politici da anni quando non esistevano anche sulla rete e da tutti gli analisi risulta che la partecipazione non è una cosa che dura non è una cosa che dura sempre i cittadini non sono attivi tutto il tempo uno si sveglia non pensa alla partecipazione allora questo sito è stato aperto e questo strumento è stato è stato lanciato per questo periodo specifico perché era un periodo importante per i cittadini ma anche importante per i candidati era un periodo di cambiamento un periodo delle elezioni allora come ha detto per esempio Walter Lippmann questo cittadino può essere attirato per l'idea della partecipazione può investire nella partecipazione quando sente che la sua partecipazione vale qualcosa e in questo periodo delle elezioni uno poteva pensare che andare sul sito esprimersi segnalare dei problemi proporre delle proposte vuol dire esprimersi quando gli altri ascoltano quando i candidati ascoltano e possono prendere in considerazione poi queste proposte allora secondo me nell'analisi è veramente importante mettere l'accento anche sul contesto di una partecipazione non solo il contesto geografico ma anche il contesto la congiuntura il contesto congiunturale e naturale due frasi sulla metodologia della mia ricerca allora ho utilizzato i dati statistici per quanto riguarda il sito ma ho anche osservato il sito ho fatto l'osservazione e l'analisi del contenuto che è stato prodotto sul sito abbiamo anche lanciato un questionario online e così abbiamo potuto fare un disegno dei partecipanti ricostruire il profilo di un partecipante meglio il mio framework era la teoria della appropriation of technology allora l'idea che non si deve guardare una tecnologia solo nell'assoluto nel senso guardare il design di una tecnologia ma sempre guardare cosa si fa di questa tecnologia nel senso come è utilizzata e cosa fanno di questa tecnologia i partecipanti ma anche questi che fanno la struttura della tecnologia adesso i risultati allora la partecipazione non è stata linearia e questo si vede sul grafico abbiamo osservato un'evoluzione importante del numero dei partecipanti e i più partecipanti hanno hanno fatto la visione al sito hanno aperto un conto sul sito durante due mesi più importanti della campagna elettorale allora in aprile e in maggio 2011 in tutto il sito ha avuto un po' di più di 800 partecipanti e effettivamente questa amplificazione di partecipazione di produzione del contenuto durante due mesi più importanti della campagna conferma un po' l'ipotesi che è stata formulata tra altri da perere decimio che le elezioni comunali è un'opportunità effettivamente per promuovere il dialogo online tra cittadini e i candidati ma anche in un modo orizzontale tra i cittadini stessi chi erano i partecipanti che hanno prodotto il contenuto sul sito allora erano sia donne sia uomini ma le donne non erano tanto presenti al contrario del caso basiliano di cui abbiamo sentito parlare prima i partecipanti erano 50% dei partecipanti erano cittadini e l'altro 50% candidati allora entrambi erano presenti e potevano effettivamente discutere una caratteristica importante è che erano adulti nel senso non giovani non giovani adulti ma adulti di più di 30-35 anni istruiti allora con una formazione educazione importante e lavorati nella città allora con un lavoro stabile a Milano con i bambini che vanno a scuola a Milano allora la gente che si senta un po' più un po' più coinvolta effettivamente grazie coinvolta per le cose che riguardano la città dal punto di vista politico del colore politico dei partecipanti erano i maggioranti elettori della coalizione di Gimiano Pisa Pia ma con buona presenza degli altri non era un sito dedicato solo a questa opzione politica la stessa cosa avevamo osservato la stessa cosa per i candidati c'erano anche maggioritamente i candidati della coalizione di Pisa Pia ma anche gli altri allora c'era un dialogo tra gli opponenti politici che permettava anche un dialogo più aperto per quanto riguarda le cifre 106 problemi sono stati segnalati e poi 117 proposte sono state formulate e questo ci mostra che c'erano più proposte che problemi nel senso che gli utenti cercavano a formulare le proposte anche se già una proposta è stata pubblicata sul sito secondo me questo può provare che questo strumento è stato usato soprattutto in un modo costruttivo che la gente non voleva solo lamentarsi di una situazione di un disfunzionamento ma voleva anche proporre una soluzione per la città e erano proposte collettive c'era anche questa possibilità di formulare una proposta in nome di un'associazione di un gruppo abbiamo osservato solo 8 casi di queste proposte collettive e 6 di queste proposte sono state formulate dal movimento 5 stelle allora di un movimento che era già molto che usava già la rete in un modo molto importante nella sua attività e per finire per chiudere secondo me è importante fare due domande che risultano un po' di questa analisi allora prima secondo me adesso un'altra fase deve essere monitorare la traiettoria di qualche proposta che sono state formulate sul sito per vedere se c'è effettivamente questa relazione tra la partecipazione e la decisione in caso milanese se queste proposte sono state prese in considerazione dalle istituzioni e poi per effettivamente fare un'analogia al tema del nostro workshop è importante chiedersi se questo strumento online potrebbe essere riusato nella perspettiva di un processo di bilancio partecipativo grazie e anche la stessa la stessa interessa che intervenisse che stava per andarsene quindi ho pensato che dunque io abbiamo avuto una casistica di vario genere Montegrazi e Fiorella che ce l'ha messa in evidenza sono come dire piccoli o grandi cantieri che ci mettono di fronte al tema su cui forse adesso dediciamo una battuta e diciamo per un piccolo esame conclusivo noi abbiamo portato avanti diciamo un modello largamente accettato dalla società italiana di democrazia rappresentativa perché riteneva che la democrazia rappresentativa fosse costruita sul profilo costituzionale dei partiti il profilo costituzionale dei partiti è quello che prevede associazioni di cittadini in libertà queste sono le tre parole che usa l'articolo 49 che con metodo democratico contribuiscono a determinare la politica nazionale finché questo modello ha qualche modo corrisposto a sistemi di organizzazione sociale dei cittadini che in libertà e con metodo democratico determinano la politica nazionale la capacità di accettare l'opinione pubblica e la società la democrazia rappresentativa non riusciva a gestire nel momento in cui l'articolo di ieri di Manzella sulla Repubblica i partiti sono diventati sono considerati non associazioni libere dei cittadini ma istituzione per condere dei privilegi di essere istituzione buonanotte all'articolo 49 della Costituzione il metodo democratico ve lo saluto col sistema proprietario che si è stabilito nei partiti il saluto l'assessore Castellanos e quindi la crisi della democrazia rappresentativa ha posto il problema di inventare un'altra che tenga in piedi il sistema e l'ascolto i modelli di cui stiamo parlando sono le risposte nelle città e ai paesi all'estero si sta facendo quando quel modello di democrazia si infrange siamo di fronte a un'alternativa io non so se gli esempi che avete ascoltato sono alternativa mi pare di capire che gli esempi che abbiamo ascoltato sono ginastica costruzione formativa sperimentazione di un nuovo prendimento delle tecnologie modalità di tener conto del bisogno della società lotti insieme allo Stato per guadagnare sviluppo mi pare che siamo alla BC questo mi pare e su questo credo che valga la pena di discutere vi chiedo la pazienza di lasciare intervenire per prima l'assessore Castellano che è qua perché se ne deve andare ci fa la cortesia già stava per scappare ma l'abbiamo gli abbiamo messo il sale sulla cosa e ci fa la cortesia di restare non so se ha sentito abbastanza per poter dire la sua ma gli diamo la parola io non sapevo neanche che voglio parlare no poi c'era scritto che dovevi essere presente che dovevi essere presente no è una forzatura no io intanto vi ringrazio dunque io rispetto a questi temi sono assolutamente una neofita io non sono una politica di professione ho sempre fatto il dirigente dello Stato quindi non sono una politica ho avuto sempre delle politiche ben precise ma sono nel campo sempre lavorato nel campo della pubblica amministrazione che mi piace moltissimo volevo fare soltanto un paio di considerazioni sulla base di questi primi sette mesi di governo della città il primo per me fare politica significa sostanzialmente amministrare bene spero la città e per amministrare la politica coincide col buon governo della città per me questo sembra una banalità ma in realtà è una cosa che noi dobbiamo tenere sempre ben fissa in mente non soltanto noi della parte diciamo esecutiva quindi gli assessori nel caso del governo della città ma credo che bisogna tenerlo presente da parte di tutti anche dalla parte diciamo più politica dell'amministrazione che è rappresentata dal Consiglio Comune cioè riuscire a tra l'altro in cinque anni che sono pochissimi riuscire in cinque anni a realizzare il pubblico interesse quindi a realizzare delle cose che vanno nell'interesse dei cittadini significa cominciare per esempio a programmarle ora per poi vederle realizzate tra quattro anni tra cinque anni quindi io credo che nel governo di una città non c'è tempo non voglio chiaramente eliminare quello che è il dibattito perché il dibattito è fondamentale però dobbiamo anche calibrare bene i nostri i nostri tempi rispetto alla alla lunghezza di di certi dibattiti di certe prese di posizione che sempre più ci allontano dai bisogni reali della popolazione dei cittadini che mi dobbiamo amministrare e questa è la prima considerazione che io mi sento di fare dopo sette mesi mi trovo tra le cose che bisogna fare quindi l'urgenza abbiamo ereditato una città abbastanza in ginocchio e invece i tempi della politica trovo una slabratura tremenda mi sembra come quando uno va a fare la psicanalisi e racconta di quando a sette anni è caduto dalla scala e magari sta 45 minuti a pensare a quello con l'analista e nel frattempo la vita passa e quella persona è vecchia non so come dire come se ci fosse una spazzatura che io sento proprio sulla mia pelle tra i tempi di un dibattito e l'urgenza di una città che ha bisogno di scuole di case di parcheggi di varie e questa è la prima considerazione che mi sento di fare e secondo me è arrivato il tempo di cominciare a far coincidere le due le due aspetti e la rete sicuramente ci può aiutare la rete ci dà la possibilità di mentre agiamo di dibattere di spiegare di lavorare io sono un assessore che usa partecipa devo dire grazie a Ligiero Gentile che mi ha insegnato a usarlo con una pazienza pazzesca perché io sono una capra in informatica e questo mi consente mentre faccio le cose giuste o sbagliate che siano la cerco di farle di avere un dibattito di spiegarle e di prendermi anche dei pomodori virtuali sul viso perché non è che va tutto bene sulla rete cioè tu ti esponi da pazzi nel momento in cui spieghi una decisione sai benissimo che quella decisione la spieghi in 10 righe in 15 righe in 20 righe sai benissimo che quella decisione troverà dei forti oppositori perché e qua vengo al secondo spunto che volevo darvi di riflessione se la politica è il buon governo della città io faccio molta fatica a far coincidere politica e ricerca del consenso cioè azione amministrativa e ricerca del consenso e questo è un problema aperto che lascio aperto al dibattito nel senso che io ritengo che se il sindaco ha voluto darmi questo incarico mi ha dato anche questa grossa fetta di responsabilità che significa prendere delle decisioni anche molto in popolare e io non devo cerco di non preoccuparmi del consenso ma di preoccuparmi della come dire avendo ascoltato prima di tutti eh avendo ascoltato tutte le campane pro e contro però alla fine io credo che noi siamo pagati e abbiamo un incarico fiduciario così delicato da parte del primo cittadino per decidere e quindi per prendere anche delle decisioni che sono assolutamente impopolare cito tanto per non stare mai senza le decisioni in tema di parcheggio allora una cosa è l'ascolto di tutti che è doveroso e rispetto a quale la rete aiuta tantissimo perché chiaro che non posso stare pomeriggi pomeriggi giornate a sentire tutti i comitati quindi delle volte alcune volte li sento e nel caso di parcheggio senti anche tutti ma poi la rete mi aiuta perché la sera si fa presto a dibattere però poi io credo che il governatore uso questa parola magari obsoleta a livello locale o a livello centrale debba sentire su di sé anche il peso della decisione anche impopolare che è fatta avendo ponderato tutti gli interessi motivandola e negli interessi della città questo è un problema poi del consenso stant'attività ne parlavo con Alessandro poi lo sanimbegni e poi è quello che distingo un po' il dispotismo illuminato dalla democrazia e io sono nel mio quotidiano operare sono sempre molto combattuta perché sento la responsabilità della decisione e anche la responsabilità di dire un sacco di no e di dimostrare anche che si può fare che questa cosa si può fare e quell'altra non si può fare e forse non si possono fare anche delle cose che la propaganda di sinistra invece diceva che si potevano fare o che si dovevano fare perché è facile fare propaganda quando poi ti trovi anche a gestire dei procedimenti amministrativi perché la politica si basa sul diritto e sulla pubblica amministrazione non esistono decisioni politiche e decisioni giuridiche le due cose devono collimare allora ti trovi a dire al cittadino guarda scusa ma non si può e per di consenso per di voti io non devo essere votata perché poi tra cinque anni tornerò a prendere tornerò in galera da dove sono venuta però io credo che una buona amministrazione è quella che ascolta tutti e ripeto che ascolta attraverso la rete ma che è anche capace di decisioni popolari e ho la presunzione di pensare e qui mi fermo che in fondo è questo che voi volete posso fare una domandina di un 30 secondi no è così decisione popolare una competenza così importante come quella che hai a casa probabilmente una premessa della democrazia partecipativa è come intercettate i bisogni cioè i bisogni che un po' prima del problema del chi si agita o del chi manda lettere o dei comitati è i bisogni cioè avete la tranquillità d'animo di avere modi per dire il bisogno sociale io sono in grado di intercettarlo poi ascolto poi decido ma intanto vi do la prova che il bisogno io lo so intercettare su questo ti senti diciamo democraticamente serena? no nel senso che in questa città rispetto al problema della casa c'è un'emergenza tra col mare come se noi fossimo con un buco nero davanti che è quella delle 20.000 famiglie che aspettano una casa e dei 2.000 alloggi e sfitti quindi io sono concentrata nei primi sette mesi su questa emergenza che mi fa stare e qua con altro dei problemi che noi andiamo a governare in questa città come altre perché da un lato stai nel fango devi togliere il fango perché le 20.000 famiglie che aspettano una casa popolare non mi fanno dormire la notte dall'altro devi avere devi intercettare il bisogno che è un bisogno molto più generale evidentemente hai perfettamente ragione il bisogno molto più generale di casa lo sappiamo tutti va nella direzione dell'esigenza di calmerare soprattutto gli affitti per consentire a tutti i cittadini anche ai giovani anche a quelli che mettono su famiglia anche a quelli che non hanno voglia di comprare una casa di poter abitare a Milano e poi ci sono varie categorie che sono quelli di diciamo classe media che forse dell'ordine gli insegnanti le persone che guadagnano 2.000 euro al mese di 500-2.000 euro al mese che a Milano non possono abitare non sto dicendo solo nella zona C ma anche nelle altre e allora questo è chiaro questo intercettare i bisogni più differenziati al netto di questa emergenza enorme di questa voragine degli sfrattati degli sgomberati degli abusivi di quelli che stanno per strada come la definisco e non so la definisco sicuramente per poi pianificare le politiche della casa nei prossimi 5 anni quindi non fermarmi al buco nero che ho davanti la definisco ascoltando tutte le parti sociali ascoltando il terzo settore ascoltando i sindacati lavorando insieme ai colleghi quindi lavorando con l'assessore Magliorino l'assessore Granelli l'assessore Benelli cercando poi di sentire appunto le parti sociali questo è la definizione del bisogno cosa molto difficile perché intanto per l'amore di lavoro che abbiamo che è pazzesca perché oltre la casa io demanio anche i lavori pubblici ma proprio perché sei distratta completamente da questo da questa emergenza però ti do ragione una riflessione su come intercettare il bisogno su come pianificare con un termine che io odio però la vision dei 4 anni in 5 anni quando riusciremo a stare al governo questo è una cosa fondamentale e qui secondo me la democrazia partecipativa è in gioco in maniera forte ti ringraziamo molto di essere stata con noi e chiedo a Torello di aspettare ancora un minuto c'è l'altro che è stato bene all'inizio perché mi sembra giusto fare pandà tra il tecnico al governo e l'eletto al popolo perché consiglieri c'era qui Marco Caffato ma che non vedo ma c'è Mattia Canise e mi chiederei di intervenire perché lui è sia pure con la diciamo l'energia di gruppo molto diciamo energico dal punto di vista delle questioni democratiche ma è portatore dell'istanza della democrazia organizzativa e quindi non si pone il problema del buon governo si pone il problema della buona democrazia carissimo grazie prima di tutto dello spazio dato che non era in programma quindi ringrazio molto parlerò prima di tutto come studente di scienze politiche e appassionato di e-government cerco di fare velocemente sintesi mi permetto tra l'intervento sul bilancio partecipativo e quello degli strumenti informatici per quanto riguarda partecipami io ovviamente ero iscritto diciamo che ho partecipato molto meno di quanto ho osservato come le persone infatti utilizzavano lo strumento sempre in ottica da aspirante politologo e prima di tutto un commento perché per esempio le proposte di gruppo venivano dal movimento 5 stelle e questo è il primo problema perché il movimento 5 stelle usa un altro network e quindi l'operazione che facevamo era un copia in colla anche qui è già un primo problema l'altro è a lungo termine tra virgolette di uno strumento di questo tipo c'è un un diretto canale con la politica con l'applicazione delle proposte in questo caso purtroppo non c'era c'erano le elezioni di mezzo che ovviamente fungevano da catalizzatore per la presenza su internet ma non c'era questo canale diretto e un comportamento che ho notato molto sia su partecipami che in particolare sul portale del movimento quando manca di fatto per esempio l'eletto nel proprio comune è che se non c'è un collegamento diretto con il comune quindi la proposta che arriva gli esperti dopo un po' se ne vanno perché non hanno tempo da perdere e quindi questo è il primo problema di un portale web deve funzionare lo strumento ovviamente a livello tecnologico ce l'abbiamo non è così difficile ci sono siti americani come partecipami in rete civica che funziona dal 95 il problema è lo strumento istituzionale e quindi è proprio qui il problema anche di partecipami perché non scoppia tra la popolazione l'utilizzo di questo perché manca il collegamento con le istituzioni che poi in particolare come lo vorremmo noi è non mediato cioè deve esserci un procedimento di democrazia partecipativa che funziona automaticamente se questa proposta viene votata passa all'istruttoria partecipata tra virgolette tutti i passaggi alla fine deve essere fatta non deve esserci il politico che può a quel punto dire sì o no e questo ovviamente è un problema strutturale di tutto il processo di democrazia partecipativa per quanto riguarda e finisco con proprio un minuto su quello che potrebbe fare il comune di Milano subito per la partecipazione per quanto riguarda l'informazione che ovviamente è il primo passo per la partecipazione è dare a disposizione i documenti che in realtà sono già pubblici ma per il cittadino è molto difficile accedervi per esempio le delibere noi abbiamo un consiglio comunale che va in diretta streaming ma un cittadino che lo segue da casa non ha neanche a disposizione delibere e quindi questo è già un paradosso che ti rende impossibile l'utilizzo di questo strumento c'è l'elenco delle delibere? no l'elenco delle delibere in questo momento è solamente l'albo pretorio e vengono pubblicate dopo l'approvazione quindi un cittadino non può seguire durante l'approvazione né sicuramente nella fase istruttoria gli altri strumenti oltre all'informazione possono essere subito la stand in review e qui mi dispiace che non ci sia più l'assessore perché era uno delle promesse elettorali la configurazione del sito ufficiale è oggetto di dibattito con l'informazione sì io ho cercato di porre l'attenzione nella commissione referendum e democrazia e digitalizzazione ne stiamo parlando e per adesso speriamo di almeno rendere pubblico quello che è già pubblico che sarebbe già uno spazio necessario per quanto riguarda il bilancio in particolare la stand in review la revisione della spesa fatta insieme ai cittadini e questa ribadisco mi dispiace che non ci sia l'assessore ovviamente non è di sua competenza ma era una delle promesse elettorali che ovviamente ci avrebbe aiutato ad analizzare come cittadini il bilancio e nonostante io in consiglio comunale ogni volta che c'è o il previsionale o gli aggiustamenti ho continuato a chiedere all'assessore Tabacci di darci questa possibilità purtroppo non c'è mai stata data ovviamente non è un bilancio partecipato ma è un controllo della spesa da parte dei cittadini che già è un processo fantastico urbanistica partecipata in questo momento abbiamo il PGT nulla ci imperisce da parte dell'amministrazione di chiedere ai cittadini una ratifica come ci veniva raccontato prima come avviene in Brasile questo sarebbe fantastico e dal momento in cui tu inserisci uno strumento di questo tipo ovviamente la politica si adegua di conseguenza sa che non potrà uscire più di tanto dalle rite come nello scorso PGT e finisco e finisco proprio con lo strumento referendario io tra qualche settimana consegnerò una delibera da cui sto lavorando per molti mesi da molti mesi per inserire nello statuto comunale il referendum deliberativo e abrogativo senza quorum questo penso che sia un altro dei blocchi fondamentali avere uno strumento di democrazia diretta che funziona perché finché abbiamo un quorum finché è solo consultivo come in questo momento per il comune di Milano non funge da care da guardia dell'esecutivo del Consiglio Comunale e questo penso che sia l'elemento che in questo momento manca e speriamo vale in porto a breve grazie mille grazie grazie è scritto Fiorello poi allora Fiorello è la prima iscritta Fiorello Pazziana gli do la parola perché diciamo lui ha un'esperienza intanto storica istituzionale come parlamentare ci sarà come studioso di questa materia e come animatore molto di questo dibattito lo può anche finire quindi la sentita è la prima ma cerco di essere molto lato perché mi ha colpito alcune definizioni e alla fine questo lavoro su cui sta lavorando sta predisponendo una proposta a Calise tu parlavi della necessità di essere veloci quindi della velocità e della metabolizzazione dentro all'ambiziosa scelta del Brasile di diventare la quinta realtà e io credo che questa sia una condizione di qualsiasi paese di qualsiasi realtà pubblica e anche privata sia di carattere associativo o imprenditoriale dentro alla natura globalizzata dei mercati in cui siamo le decisioni devono essere tempestive e devono essere metabolizzate in questo senso credo che il deficit per noi sia enorme qui abbiamo parlato di esempi di esperienze di bilanci partecipati e di partecipazione informata noi a Milano conosciamo per statuto e per regolamento derivato dallo statuto lo strumento referendario come ricordava Calise Pocanzi il direttore consultivo vorrei dire di indirizzo prevede pur con questi limiti di non essere di natura deliberativa prevede delle responsabilità da parte dell'amministrazione la responsabilità era quella che per i tempi in cui è stato tenuto il referendum ed è stato approvato dai milanesi per il 5 di ottobre doveva presentare una delibera a quadro che rispondeva con l'approccio dell'amministrazione per trattare la volontà che i cittadini hanno espresso in referendum i cui quesiti erano stati in modo preventivo approvati da una commissione apposita del comune perché non chiedessero ad esempio la luna che non è nella disponibilità del comune di Milano della sua amministrazione questo non è stato l'unico atto che abbiamo visto pur in ritardo è un pezzo di un singolo referendum che era quello sul traffico che riguardava l'area C la congestion charge nell'area C l'unico atto di informazione rispetto alla metabolizzazione che tu richiamavi sono stati degli incontri nelle zone del decentramento che a mio viso sono state una simulazione dell'ascolto e dell'incontro sono stati gli incontri dove uno dice io li ho comunque fatti facciamo due ore d'incontro un'ora era letta dall'intervento del vice sindaco e dell'assessore che lo accompagnava o della dirigente dell'agenzia per la mobilità Perrini per spiegare il provvedimento dell'area C io non ho sentito nell'incontro di Sanato nella mia zona se è quella dei Navigli alcun riferimento al referendum e al testo referendario di Merit né una relazione tra il referendum sul traffico e quello che riguarda le emissioni e quindi tutto il problema del riscaldamento coimentazione rinnovabili e quant'altro ora qua la cosa che è uscita con chiarezza è che i cittadini partecipano se c'è una quota precisa e certa di sovranità dentro il processo deliberativo di cui dispongono che riguardi dei soldi da investire al comune di Canegrate o che riguardi in questo caso qua dei referendum lunghi indirizzo io mi domando quanti parteciperanno al prossimo referendum se le risposte sono preste e parlo di una città che ha una tradizione di partecipazione referendaria cittadina avendone promosse diversi io dico che questa città ha quella tradizione allora qui c'è una questione che è Cardini tu l'hai citata in riferimento all'articolo di Manzella su Repubblica la verità è che oggi le forme della partecipazione alla dimensione elettiva quindi alla rappresentanza formalizzata tramite elezioni sono vissute da chi ci concorre come una questione di cui poi disporrà in modo autoreferenziale che lo faccia per interessi particolari anche illeciti come è stato il caso della maggioranza che ha governato il paese fino a un mese fa è un conto che lo faccia per interessi di natura sociale imprenditoriale consolidata in cent'anni non mi interessa a me interessa l'aspetto che risponda come politica pubblica agli interessi generali qui capisco quell'aspetto di decisione da cui rinava prima la sessuale io pretendo questo io non posso pensare che partecipo perché periodicamente gli ex arancioni o arancioni tutt'oggi vengono convocati quella da limonta che va e spiega i cittadini a me quello non interessa in modo che assoluto io voglio partecipare per la quota che mi spetta per statuto per quello poi mi batterò per ampliare quella quota allora questa questione centrale come mai un'esperienza tu giustamente lo rilevavi poc'anzi un'esperienza di così grandi qualità come quella della rete civica di Milano che proprio sul campo si è misurata si è definita si è modificata in così in così tanti anni vede in un passaggio cruciale dove la quota di seguranità è nulla se non un ascolto presunto perché mi è bastata vedere la fotina di uno dei candidati che aveva dietro per lo simbolo elettorale tra quelli che sostenevano una proposta mi sembra un modo di pretendere a captarsi o benevolenza insomma mi sembra quanto meno come mai vede solo 800 persone come vi avevo ricordato quando noi vediamo che a Cannegrate che non è solo Roma su Marte qua a fianco di Milano sono 1300-1400 persone su 12.500 abitanti è come se a Milano partecipassero 150.000 persone 120.000 persone in cosa perché perché pur disponendo l'articibica di un modello molto interessante se penso a quello sulle strade vedete sulla segnalazione questa cosa io mi appresto a utilizzare la loro piattaforma per l'area dei navigli però io dico non dispone di nessun legame veniva detto con la dimensione pubblica nessuno di alcun tipo pur essendo il comune tra credo i membri della fondazione no il comune no solo la provincia e la regione allora c'è da chiedersi ad esempio nella definizione del piano territoriale della provincia come è stata utilizzata la rete civica per consentire una partecipazione informata a tutti i corpi intermedi e all'amministrazione locale della provincia di Milano zero oggi come viene utilizzata dal pezzo che riguarda la provincia di Milano del parco del Ticino dove un comune vuole uscire dal parco per volerci identificare e il parco fino adesso parco del Ticino sto dicendo parco sul non parliamo della tendenziale fatta per la mafia ma quello è un altro discorso ora io quello che voglio dire una questione deve essere chiara a tutti c'è partecipazione se c'è informazione accessibile e qui vorrei dire a Calise che è l'unico rappresentante istituzionale che abbiamo qui che deve chiedere in comune con una mozione il rispetto di quelle che sono le indicazioni della commissione europea appena rinnovate dieci giorni fa sui open data perché quello è un diritto acquisito il comune deve dirti che cosa fa per adeguarsi a una cosa che il nostro paese ha già ricevuto e che la commissione europea ha ulteriormente innovato mettendo l'aspetto di accountability rispetto ai fondi che dà per questo per verificare come vengono usati allora occorre partecipazione informata e occorre una quota certa di sovranità di cui dispongo se no chi è che va chi è che va perché ci va se no perché la squadra va male o ha perso la fidanzata o fidanzata o questioni compensative ma se no difficilmente ci va ok io ho sempre stato presente sulla rete anche sia in sede di primarie sia in sede di elezioni adesso cerco di essere presente io sono presidente di una commissione lavoro e attività colettiva in zona 3 e quindi di utilizzare il forum di zona 3 della rete per Milano per avere informazioni sui dibattiti il problema è proprio questo è il collegamento nel senso che quando noi interveniamo come presidente di commissioni sull'esigenza del cittadino per cercare di chiuderla abbiamo avuto un esempio un cartello by me di clear channel di via modera in cui è nata l'esigenza è nata la lamentere è nata dibattito poi arriva la delibera cioè cercare di chiudere quindi pubblicare poi la delibera del consiglio di zona poi cercare di pubblicare le risposte degli uffici le controdelibere però la cosa chiaramente è tutta molto volontaria cioè se il presidente della commissione interviene cerca di chiudere e quindi di informare i cittadini poi noi abbiamo molto dibattito faccia a faccia nelle commissioni quindi abbiamo poi bisogno che i cittadini vengano in commissione a parlare e a disporre magari poi non vengono quindi c'è anche il problema di esigenti espresse sulla rete che poi non si concretizzano nella commissione o persone che arrivano in massa in commissione e non ci sono nella rete quindi la cosa è abbastanza complessa noi abbiamo anche il sito della zona 3 istituzionale in cui cerchiamo di mettere in cui ci sono gli ordini del giorno delle commissioni che però non è raccordato ovviamente quindi c'è poi te ne so se io rispondo a su Milano a partecipare su una cosa di cui si occupa in realtà il mio collega perché in un'altra commissione magari si arrabbia quindi c'erano anche problemi di competenze su chi interviene a rispondere al cittadino perché se lui fa una domanda sul territorio dovrebbe rispondere il presidente della commissione del territorio se lui fa una domanda sul commercio dovrebbe rispondere il presidente del commissione quindi come raccordare effettivamente la problematica aperta poi alla fine si vede che le persone che intervengono in rete sono poi un po' sempre le stesse quindi come fare a diffondere poi noi parliamo anche di un comitante che una cosa importante è che il consiglio di donna possa diventare il posto in cui fare come a Canegrate il bilancio partecipato nonostante che noi siamo ancora a 150.000 abitanti quindi non siamo 12.000 nella zona 3 però se il comune se Tabaci nella spending review che facesse venisse anche a chiederci in zona 3 quali per tutti i progetti vogliamo dare le priorità dovrebbe venire a chiederlo a noi invece noi questo non lo vediamo il piano delle opere pubbliche che ne so Maran decide le piste ciclabili Maran decide quale piste ciclabili fare lo vediamo nel sito del comune come informazione a 13 gennaio Maran ha deciso che fa raggio 3 raggio 4 raggio 5 eccetera ma non ha consentato le zone di zona 3 non ce n'era neanche una ad esempio allora adesso noi facciamo la riunione in zona 3 per decidere quali piste vogliamo ma non solo nel piano per repubbliche triennale quindi c'è allora qualcuno avrebbe venuto chiedere o fare o dire abbiamo abbiamo nove raggi verdi quali facciamo prima quali facciamo dopo abbiamo a disposizione 10 milioni di euro ecco quella è una banale priorità che si potrebbe gestire a modi canegrate forse piuttosto che le scuole la manutenzione delle scuole adesso ci daranno probabilmente la manutenzione delle scuole e del verde allora lì potremmo fare qualche piccolo operazione di questo tipo nel bilancio che ci danno ma tutto quello che noi non abbiamo abbiamo a bilancio della zona 3 e non interveniamo quindi c'è ancora molto riguardo si può fare una domanda scusate volevo porre una domanda a loro in questo senso sull'onda del principio che partecipare è decidere volevo sapere se esistono delle evidenze numeriche per dimostrare un po' scientificamente la differenza quantitativa di partecipazione che si crea con l'elemento decisione rispetto ad altre forme che non comprendono la decisione stop grazie non è mica il quesito è che partecipare e decidere no il quesito non è il quesito non è se ci sono evidenze numeriche non è mica se ci sono evidenze democrazia sono convintissima per quello chiedo se ci sono evidenze numeriche per dimostrare che si potrebbe fare un sondaggio qui sulla sensala semplicemente se mi si chiede di spendere del mio tempo delle risorse anche economiche per all'interno di un processo dove la mia decisione può contare o non contare secondo nessun criterio democratico o aritmetico chi è disposto a partecipare a spendere magari un fine settimana per andare a un'assemblea e chi no si potrebbe fare un sondaggio qui è semplice è come se in democrazia se nella democrazia il voto fosse poi sottoposto alla discrezionalità di un re quanti vederebbero cioè meglio chi non si arrabbierebbe di farlo a questo aspetto poi ci sono gli aspetti di consultazione i mitavoli di concertazione eccetera eccetera il principio è quello di democratico è che chi partecipa deve decidere poi sono forme diverse facciamo una chiarezza come dire metodologica la democrazia rappresentativa i coeletti decidono la democrazia partecipativa è procedura dell'ascolto organizzata con sistemi intermedici assolutamente no posso dire che 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 non si può prendere decisione pubblica se in sei mesi non si organizza con tutto il sistema delle rappresentanze degli interessi con dossier organizzati dall'amministrazione pubblica per fare la partecipazione informata con gli ascolti con i dossier delle parti che sono accolti o non accolti se corrispondono a criteri normati e quindi il processo di consultazione che dura in quel mese è co-decisionale nel senso che è un sistema di come dire ascolto obbligato delle parti per dire un modello tutto il resto è sperimentazione dentro questa sperimentazione c'è il caso di Kamegrat che è uno dei mille ma c'è anche il mio sì scusate ma in cui deve passare l'ho fatta prima la domanda deve passare il principio posto scusatemi io mi ricordo quando l'attuale leader repubblicano Gingrich lo poneva quando era speaker del congresso americano che diceva piantatela lì di continuare a pensare che la democrazia è numero in assoluto la democrazia è chi c'è punto se passa il principio che la democrazia è chi c'è il caso di Kamegrat diventa modello ma deve passare il principio su cui io vi oppongo a morte io vedo un minuto solo questo lo vorrei chiarire siamo in fila adesso siamo tutti a parlare io volevo solo introdurre scusate fuori dall'intesi personale che non esiste è che su questo tema non è disciplinato il modello istituzionale complessivo valgano tutte le tesi in gioco siamo in un pre-laboratorio e per quello che riguarda Milano dopo quello che ho sentito sulle zone che non vengono nemmeno consultate su un delibere di questa natura semplice preoccupato che in distanza di sei mesi non ci sia ancora un fio di metodo per orientare la sperimentazione questo mi sembra Fiora no c'era prima di vai poi ci sono ieri faccio ma poi c'è anche Iuri Guayana e c'è il sindaco di Canegra che francamente è proprio allora possiamo rassertare qui solo per continuare questa discussione sulla partecipazione cos'è la partecipazione è vero che non c'è una sola definizione di questo termine e forse è questo che fa un po' confusione perché per esempio dal mio punto di vista la partecipazione non deve essere direttamente legata con una decisione perché uno partecipa anche per mostrare un problema mostrare qualcosa che non va oppure qualcosa che può essere fatto in un altro modo e si chiama agenda setting mostrare una visione un problema da discutere e questo processo anche influenza la decisione però è un po' più lungo non è una decisione diretta che esce che pesa durante un'assemblea per esempio e poi secondo me anche i processi partecipativi come il bilancio partecipativo presentato da Stefano devono essere questionati in un modo perché per esempio Stefano ha mostrato che questo bilancio partecipativo che è stato fatto è stato fatto c'erano tante fasi di questo bilancio allora io mi sono anche domandata durante la sua presentazione se durante questo processo così complesso non ci sono i meccanismi di rappresentatività anche di rappresentazione nel senso che le domande che sono proposte le proposte che sono formulate nella prima fase poi sono aggregate in un modo per essere più chiare oppure per fare la votazione più semplice allora in questo processo secondo me c'è anche un processo di traduzione delle domande oppure delle proposte che sono formulate dai cittadini e c'è anche in un modo la rappresentazione degli interessi che sono aggregati allora secondo me non c'è una una semplice differenza tra la democrazia partecipativa o la democrazia rappresentativa il mio punto di vista è che la partecipazione fa parte della democrazia rappresentativa e la completa perché in una società così complessa che la nostra di oggi non si può semplicemente decidere in modo collettivo prendere ogni decisione in modo collettivo è per questo che è chiarissimo partecipare non è solo sempre decidere e anche influenzare io volevo avevo un chiarimento rispetto alla questione perché alcuni di voi in qualche modo ci chiedevano ma perché su partecipare non succede questo non succede che altro allora io volevo chiedere una cosa che partecipami è una piattaforma è uno spazio sviluppato come autoinvestimento da un laboratorio universitario e una fondazione di partecipazione nata da questo laboratorio il ospitiamo e io sono molto grata all'assessore Castellano che è venuto confermando la disponibilità che ha dimostrato e vedo che è riuscita ad arrivare a Mascavulso che è un'altra delle persone in questo periodo ha mostrato di investire su questa partecipazione spiegando anche perché condivide alcune delle nostre convinzioni sul perché è meglio farlo per esempio giusto per entrare a una cosa che tu avevi detto perché su partecipami e non su Facebook adesso non ci sono qui non è qui il momento in cui possiamo entrare in dettaglio ma potrei tenervi un'ampia lezione su questo argomento e dare qualche risposta a questo riguardo ma quindi vorrei sottolineare questo aspetto allora io sono ben d'accordo con Michele Sacerdoti che sarebbe interessante pensare ad altro però è il passo che io mi auguro che anche un seminario come questo in questa sala possa andare avanti come dire noi abbiamo costituito la fondazione di partecipazione nel 1998 con la regione Lombardia addirittura alla provincia di Milano a Camera di Commercio allora avevamo una bella collaborazione con il comune con un compito di supplenza che ci fu riconosciuto allora quando il comune di Milano ha aperto il suo sito c'è arrivata la lettera di ben servito ce l'ho ancora ve la possiamo mostrare abbiamo tenuto delle relazioni per tutto questi anni io mi auguro che con questa amministrazione questa cosa si sblocchi allora poi potremmo cominciare a ragionare davvero su come attivare quei canali e io penso che allora sì che magari non arriviamo ai migliori cittadini perché io dalle mie ricerche e qui faccio anche non è che ci sono la gente partecipa quando c'è un problema reale come diceva qualcuno non è che mi alza la mattina e dico che voglio partecipare ed è anche fisiologico in una slide di Eva c'era scritto che questa è un'elite che probabilmente quella che attualmente è un'elite ma probabilmente in qualche misura la può anche arrestare quella che anche partecipa online l'importante è che sia un'elite con connessione con la città reale che quindi che non sia un'elite che può essere uno zocco lo duro diciamo di una partecipazione che però poi ha anche degli altri canali e in questo l'idea di Mimmi dei negozi civici di fare questi punti sul territorio può essere complementare quindi volevo chiarire questa cosa telegraficamente due cose lei chiedeva evidenza mi permetto di prendere un pezzo di scuola secondo me l'evidenza è quello che io ho visto avendo fatto per esempio un progetto di partecipazione con dieci comuni lombardi l'evidenza tra le più belle della ragione per cui a me piace è il caso di Canegrate perché in quel grafico che ha mostrato Stefano di crescita dal primo anno al secondo quel grafico dice che la gente ma di mercato era successo la stessa cosa anni fa che se un'amministrazione non investe un anno ma investe due o tre anni il messaggio che chi c'è poi conta per gli altri gira e quindi se si andasse avanti non uno ma due ma tre o quattro anni probabilmente quei numeri crescono perché la gente non è stupida capisce che il primo anno va chissà ma se poi la banda municipale capisce che l'anno dopo e vedete che i numeri crescono e scommetto che se qualche amministrazione ci stesse davvero la crescita è esponenziale ci scommetto io ultimissima cosa sulla questione partecipazione e decidere o no allora mi permetto di dire che ci sono dei come dire un po' di letteratura scientifica su questa cosa esiste Locke nel 2001 e poi ripreso dalla commissione europea ha scritto un rapporto su citizens as partners in cui identifica tre livelli che vogliamo chiamare partecipazione o no ma da cui ho tratto ispirazione per il mio arcobaleno cioè che sono un po' lì dentro in cui il livello è la informazione perché senza informazione non si va quindi i cittadini devono avere informazione che non vuol dire che però per fare il bilancio partecipato bisogna avere il bilancio del comune completamente leggibile perché se no non partiamo più cioè se aspettiamo di avere è un altro problema per cui il massimo di trasparenza io mi auguro che tutti i nostri consiglieri comunali facciano il massimo per avere la vera trasparenza non mi riesco a ricordare a memoria la citazione di Norberto Bobbio che ci è stata data in un intervento al corso non so se qualcuno di voi se la ricorda ma bellissima per dire che la partecipazione è il prerequisito della della democrazia e poi gli altri due livelli sono l'ascolto e il coinvolgimento allora è vero la realizzazione compiuta a ragione Stefano del dire è solo il coinvolgimento ma anche le tappe intermedie un ascolto con cose tipo fictional street servono ad andare in quella direzione quindi non fanno completamente schifo e se riuscissimo a farne un po' insomma sarebbe una buona punto di partenza scusa volevo solo ricordare che quando ero capogruppo di una lista che si chiamava Milano Civica e vorrei passare il testimone all'attuale lista Milano Civica abbiamo protocollato calendarizzato ma mai discusso una proposta di delibera di iniziativa consigliare appunto sui processi partecipativi deliberativi anche faccio un esempio non sono deliberativi neanche i processi quello che viene fuori dai consigli di zona quindi ad esempio già in quella fase si assegnava una capacità vincolante ai pareri sull'urbanistica espressa dai consigli di zona questo riusciva a riparare in parte quel deficit perché vedi l'ascolto anche nel precedente PGT c'era scritto che si era fatto l'ascolto perché obbligatorio appunto però poi si diceva che insomma erano i pareri degli stakeholders se si diceva con la parola inglese portatori di interesse ma che detto all'inglese faceva più venire in mente i developers che non i cittadini che sarebbero i veri portatori di interesse no? ecco infatti abbiamo fatto anche degli emendamenti sulle nomenclature per far capire no per dire che invece un accenno delle procedure anche deliberative era già stato proposto passo il testimone all'attuale lista milano-civica una puntualizzazione e poi abbiamo un intervento davvero una puntualizzazione perché sei stato stimolante dal punto di vista anche sì anche proprio da accademico la partecipazione non è detto che debba coincidere con momenti di rappresentanza elettiva qual è stato il portato comprensibile della cultura politica italiana nel senso più trasversale della cosiddetta chiamiamola così prima repubblica che è quello che informa il nostro paese a tutt'oggi comprensibile perché derivano da un ventennio di fascismo e quindi l'idea di moltiplicare gli ambiti elettivi vedi il decentramento noi invece di moltiplicare gli ambiti elettivi dovremmo moltiplicare gli spazi di relazione tra le risorse normative di indirizzo finanziario ed economico pubblico che sono nella potestà degli ambiti elettivi e quella che si chiama cittadinanza attiva o per altri sussidiarietà perché noi non smontiamo il decentramento milanese che presenta se no questi aspetti patetici come abbiamo visto prima e invece lo trasformiamo in un ambito dove cittadinanza attiva trova l'incontro con chi lo aiuta e lo facilita ad attivare le risorse per realizzare cose su cui è già faccio un esempio in due ne voglio fare al volo così pannelli fotovoltaggi e condomini se un condominio l'assemblea dei condomini l'oggetto di Barzelletti piuttosto che i gestori psichiatri o giudiziari se deve decidere come investi i soldi per coibientazioni e riscaldamenti e fonti di riscaldamento la possibilità di rapporto con l'istituto bancario e con A2A che lo facilita per definire un progetto financing su una tecnologia di pannelli fotovoltaggi tranquillo che è partecipantissima quella roba l'unica cosa che chiedono le signore anziane è entro quanto entrano se no mettono soldi di cui non godranno perché ho iniziato il mio condominio in questo pensavo che non andare a nessuna parte invece si può ed è un esempio piccolo e concreto cioè se hai delle quote minime di disponibilità di cose in cui puoi partecipare l'altro esempio sono i gas io faccio parte di un gruppo di acquisto solidale questo non dispone oggi di nulla di pubblico nulla c'era qua la Castellana ad esempio magari degli spazi per fare minimo di magazzino locale per le cose sarebbero comode eppure qui è dimostrato una capacità decidenazia attiva che non è fatta in chiave assistenziale ho portato due esempi uno che riguarda solo portafogli un altro che riguarda anche aspetti più di qualità e di qualità allora su questo non c'è bisogno di elezioni c'è bisogno di sapere di che cosa posso disporre grazie grazie abbiamo Iuri poi il sindaco di Canegrate ci sono due consiglieri comunali qua che vorrei sapere se hanno voglia di prendere la parola si vedrà si discuterà va bene alzate un dito prego grazie io sono vicepresidente di zona 2 vengo per l'Italia federalista europeo e di professione storica lo dico perché secondo me poi avrà un peso su quello che volevo dire io potrei portarmi tonnellate di frustrazione rispetto al lavoro che si fa nelle zone perché effettivamente come è stato detto prima il lavoro è molto ma poi i nostri pareri non sono vincolanti quindi noi lavoriamo lavoriamo e poi alla fine ma non è che lavoriamo noi lavoriamo insieme ai cittadini perché la zona nello statuto di Milano è proprio l'organo destinato a come dire stimolare la partecipazione attraverso dei canali anche di natura istituzionali solo che poi la barriera è che i nostri pareri non sono mai dico mai vincolanti in più io devo ringraziare la rete civica in particolar modo partecipa mi perché io spesso e volentieri uso partecipa mi per fare il mio lavoro di consigliere di zona perché il sito del consiglio di zona è assolutamente ingestibile ingessato burocratizzato impossibile da utilizzare per la mia per la mia campagna in più ancora aggiungo essendo io un utente di Mac non posso scaricare Internet Explorer e il sito intranet del comune che è destinato all'uso dei consiglieri è ottimizzato solo ed esclusivamente per Internet Explorer nessun altro sistema operativo può essere utilizzato e allora di che cosa stiamo parlando che tipo di partecipazione è quella di cui stiamo parlando la partecipazione secondo me l'ha detto prima l'intervento dal pubblico il punto chiave della partecipazione è quello dell'informazione secondo me secondo i radicali è fondamentale ampliare la trasparenza l'abbiamo l'abbiamo detto che è stato detto da tanti anche da Calise prima è quello di rendere accessibile ai cittadini tutti i lavori del Consiglio comunale e dico anche delle zone perché le zone non ci sono registrazioni io personalmente come radicali faccio questa disobbedienza civile di prendere le registrazioni e pubblicarle su Radio Radicale scontrandomi con buona parte dei consiglieri ma non è previsto cioè non si può fare sul sito del Comune cosa che invece sarebbe assolutamente utile l'accesso però deve essere attraverso opetata come si diceva prima deve essere un accesso accessibile a sua volta cioè i formati devono essere aperti le registrazioni così come le delibere devono essere indicizzate adesso l'altro operatorio è vero che vende le delibere online ma solo per 15 giorni e poi spariscono c'è l'archivio che però è accessibile a tutti ah ok questo non lo spero perfetto buona saperti perché per esempio spesso e volentieri mi scappa la ottimo lo storico arriva adesso sulla però tutti come dire cautela rispetto alla partecipazione perché appunto la storico io ricordo il monitor di Tocqueville sulla dittatura della maggioranza e allora è molto vero che per esempio io sono la purissimo con la posizione del cuore su tutti i referendum perché chi c'è secondo me può anche decidere però il referendum come hanno previsto per esempio i nostri costituzionalisti in Italia aveva un'azionale abrogativo qui è consultivo e abrogativo ecco un referendum deliberativo senza quorum fa venire meno un elemento di prudenza che francamente a me inquieta perché ci sono ragioni l'assessore Castellano prima a dire i politici io non condivido l'idea necessariamente che politica e amministrazione siano così congiunti però il politico deve decidere e deve saper prendere anche le decisioni impopolari faccio un esempio se si vuole piuttosto radicale il matrimonio tra persone omosessuali raggiungerebbe la maggioranza dei consensi eppure un politico illuminato come Cameron di destra sostiene che questa è una cosa da fare ora secondo me i politici devono mantenere quell'elemento di libertà poi però devono pagarne le conseguenze alla successiva tornata elettorale qualora la loro decisione fosse sbagliata per gli effetti perché poi non tutte le decisioni si possono prevedere con gli effetti e quindi un elemento di prudenza anche nell'aspetto decisionale della partecipazione ci deve essere ma la trasparenza deve essere estesa al massimo noi per esempio sosteniamo anche l'aura pubblica degli eletti anche a livello locale tutto quello che gli eletti fanno guadagnano nella vita lavorativa così come in quella come deve essere di accesso pubblico perché per deliberare bisogna conoscere conoscere per deliberare questo è secondo me la chiave della partecipazione grazie le questioni sono molto grosse nel senso che qui siamo pronti al tema che è il giorno da quando è scoppiata la crisi e cioè che tre quarti delle decisioni che si prendono in tempo di crisi sono impopolari e quindi se fossero oggetti di discussioni perché sarebbero bocciate però sono utili è chiaro che il problema c'è tutto il mondo gli americani hanno inventato questo modello del mezzo mandato il primo mezzo mandato il presidente o il governatore prendono decisioni impopolari e usano una democrazia rappresentativa per far valere l'impopolarità negli interessi generali nella seconda metà del mandato si rimettano alla democrazia e quindi si rimettano sostanzialmente dalla logica demoscopica per cui è saltato perché la crisi ha fatto saltare non a mezzo mandato la prima parte del mandato di Obama ha fatto saltare il modello quindi siamo tutti a discutere in questo momento come gestire l'impopolarità per esempio Monti ha un modello che è diverso da quello di Pisa Piede sulla gestione dico adesso proprio epidermicamente su come si gestisce l'informazione alla città sull'impopolarità diverso ma nella vicenda del biglietto dell'ATM è andato da Monti non è che è stata fatta la consultazione non è che è stata ascoltata la città è stata presa la visione impopolare di cui si sapeva che sarebbe pagato il prezzo di immagine a lungo e che bisognava compensare in un certo modo esattamente alla Monti giudichiamolo perché stiamo cambiando le categorie con cui interpretavamo queste cose le stiamo tutte cambiando quindi in questo momento il dibattito proprio sugli aspetti di democrazia è aperto senza pregiudizio e quindi secondo me non lo risolviamo adesso in un convegno ma è meritorio dell'opposto perché se lo affrontiamo in questo modo laico probabilmente diamo un contributo il sindaco tu devi dire una cosa in più no il sindaco perché ha tutto diritto sì penso che dopo aver sentito il tecnico che ha curato l'esperienza del naso partecipativo di Canegrate possa essere utile per dare un po' di completezza di informazioni anche l'esperienza di chi l'ha vissuta dal politico beh innanzitutto devo dire che questa esperienza di naso partecipativo è nata dalla discussione in campagna del Torale cinque anni fa per la costruzione del programma e all'interno della coalizione centrosinistra che rappresentano la discussione non è stata un'anime semplice c'era ancora chi cinque anni fa pubblicata siamo un'anime semplice rappresentativa dobbiamo solucere la responsabilità e lì di Massimo sono d'accordo ad esempio dopo pochi mesi che eravamo tra il governo nel 2007 abbiamo fatto una scelta forte come quella del billetto a Milano e hanno detto scommettiamo che l'anno prossimo il vice Berlusconi comincia a togliere i lici della cassa e quindi le pautole a comuni e questa è la prima parte di quello che succederà ai comuni dopo quindi mettiamo lì per far Massimo abbiamo fatto questa scelta questa è la scelta che ci ha permesso di risolvere i servizi ad esempio fino adesso anche se adesso è totalmente complicata la situazione per cui il futuro anche su servizi è incerto quindi questa è l'assunzione di responsabilità però l'altra cosa invece c'è coinvolgere i cittadini perché coinvolgere i cittadini a me è piaciuto su due cose del professor Rolando la prima quando dice siamo la BC poi possiamo discutersi canegra che all'Avac ma siamo la BC comunque la seconda cosa è quando diceva che ci sono la questione del 50% il 50% è i partiti politici il 50% sono istituzioni intermedie l'associazionismo se non ci sono i partiti c'è l'associazionismo e io credo per l'esperienza che ho avuto che fare a meno del partiti può solo complicare la situazione perché sicuramente io parlo da uomo di partito da quando ero 16 anni ho fatto fidici PC PDS UDI ODS PDISO quindi ho fatto tutto e sono sempre stato l'interno in un partito a volte sono stato anche scomodo nel senso non proprio rigio istituzionalmente al partito e penso sono convinto talmente che i partiti a volte si trattano dalle istituzioni ci sono esempi insomma di questo per cui è facilmente comprensibile ad esempio i partiti quando si mettono a discutere del problema o durante la legislatura si mettono a discutere quali sono i bisogni della gente fanno alcune becche sicuramente la gestione della pubblica amministrazione è complicatissima ci sono modalità burocratiche vuol dire che a volte sono talmente eccessive per cui a volte mi viene non dico bestemmiare da arrabbiare mi sono in comune perché dico una cosa oggi e non la si fa né domani né tra un anno né tra tre anni perché ci sono dei pastori e poi devo giustificare perché non si fa anche se l'avessi dovuto fare però oggi si ragiona proprio con le pastogne nel senso l'ultimo naso partecipativo avete visto i cinque progetti che erano stati erano messi i primi due che sono stati vincitori sono stati la stazione ferroviaria da mettere a posto e comprare mobili nuovi per le scuole la prima di competenza di regione RFI non del comune la seconda di competenza della Germini che ha distrutto le scuole e non compito il comune per cui si è fatto un bel dibattito di dire ma perché dobbiamo spendere i soldi dai cittadini per mettere a posto su problemi che derivano dallo Stato da regione dalla clienti domanda più che legittima se ci fosse stato il politico di turno che doveva decidere davanti alla capacità di spesa di cento l'esigenza di mille diceva beh scudiamo questo perché di competenza dello Stato scudiamo questa regione saranno stati i primi scudere sono stati i primi senza di scelte perché perché i cittadini non solo nel mondo dell'associazionismo ma due o tre pendolari che hanno cominciato a parlare per pendolari e non associazioni della scuola ma qualche insegnante con qualche genitore della scuola ha cominciato a parlare e si è diffusa questa si si è organizzata in maniera spontanea anche a di forte nel mondo dell'associazionismo per cercare di fare emergere queste necessità e sono state le necessità che sono emerse per cui non è stato semplice io qualche volta volevo sparare gli stefano perché mi riportava la realtà la promessa fatta quindi io dovevo mantenere le promesse fatte altrimenti giocavo la mia faccia però era complicato trovare la modalità di intervenire su questioni non di competenza dovevo trasformarle prima in competenza quindi sono stati prima a far l'accordo con Refrain con Regione la stazione è stata la prima oggi che è stata quasi completamente messa a posto tra qualche giorno facciamo l'inaugurazione ci sarà la sede della protezione civile insomma c'è una serie di cose l'abbiamo trasformato una come si dice una difficoltà e l'opportunità però è stato complicato il percorso è stato complicato il percorso perché la gente ha scelto un percorso complicato la risposta che dalla politica doveva fare è trovare una risposta adeguata ad un percorso complicato l'esperienza fatta è nel programma per la prossima rielezione o meglio non io sono convinto che sia necessario farne proseguire anche se ci sono stati aspetti di limitazione che credo che devono essere superati ovvio siamo la bici in quindetta per riassumere secondo me quale può essere l'obiettivo l'obiettivo difficile in tempi difficili in futuro sono con il punto di domanda tutti i servizi alla persona sia scolastici sia sociali perché quello dire ma noi due tre anni fa avevamo 14-15 milioni di bilancio oggi andiamo 12 tra quest'anno e l'anno prossimo ce ne trova un altro situazione drammatica quindi ci sarebbe la necessità di overventarsi in modo di fare servizi in maniera da non togliere il servizio lasciando più o meno intatta la qualità possibilmente oppure la soluzione è il taglio dei servizi e il taglio dei servizi penalizza le fasce più debili della città ora come si fa risolveri il problema con la partecipazione è questo il problema grosso bisognerebbe arrivare a discutere con la gente non fornendo gli dati di bilancio perché già il consigliere comunale e anche l'assessore amma la pena l'assessore capisce i suoi amma la pena no? figurarsi il consigliere comunale vota ancora nel buio il cittadino lo prendiamo in giro se gli diciamo che deve capire il bilancio comunale però le pezze di bilancio per abituare il cittadino a capire il bilancio comunale le pezze di bilancio per vedere quali sono le cifre informarlo su come è gestito il servizio confrontarci con lui per capire se è un servizio che ha senso che ci sia e se ha senso che ci sia come può essere ristrutturato per avere un risparmio che lo sia un'operazione da fare estremamente complicata è la parte complicata è la parte che potrebbe anche scivolare nel non decisionalismo perché in questo caso la decisione poi aspetterebbe deve aspettare la giunta comunale quindi a chi ha la rappresentatività dopo aver sentito le parti dopo aver sentito i cittadini non solo in parte interessate ma cittadini che troppo spesso sono abituati a non considerare alcuni servizi perché non li riguardano un servizio portatore di ennica per riguardo i portatori di ennica della loro famiglia e non gli altri ecco siccome siamo in una fase adesso il dibattito è stato abbiamo poco tempo ma siccome siamo in una fase di inventario è giusto che su questo discorso fatto da un sindaco e quindi da un eletto in presenza qui anche di eletti noi a questo punto qui facciamo un link lo mettiamo a parte ne parliamo un'altra volta ma il link sulla riforma della legge elettorale dobbiamo farlo perché se noi continuiamo a immaginare che gli eletti non sono eletti ma nominati ci manca un pezzo del problema che è quello per il quale si è sempre parlato di fronte alla normalità dell'elezione conquistata con la voto per voto della cosiddetta democrazia della spesa quante volte ci siamo sentiti dire dall'esessione della cultura dai ministri dei bieni culturali perché è un bilancio così piccolo perché non c'è domanda e la domanda in una società moderna si misura non c'è solo bisogno di riunire la gente nell'anga oggi la domanda si misura in maniera demoscopica in maniera statistica in maniera complessa c'è tanti modi di misurare la domanda fino al punto di considerare anche la domanda espressa dal voto perché è un voto legittimo non è un voto manipolato da una legge elettorale nefasta quindi se noi avessimo un sistema che torna alla responsabilità dell'eletto il problema della democrazia della spesa si porrebbe e il problema di costruire la cultura di informazione perché aumenti la domanda di questo o di quello che è un'altra logica della partecipazione e questo spiega che la partecipazione può anche non essere immediatamente decisiva ma è partecipativa di influenzare le scelte pensate cosa è stata la battaglia dell'endicam in tutto il mondo quando era evidente che se si dovesse solo dire che l'abbattimento delle barriere architettoniche che andava a costare su tutti i cittadini a mettere in secondo ordine 50.000 altre spese utili nessuno l'avrebbe mai fatto non avrebbe mai abbattuto barriere si sono abbattute le barriere perché si è costruita una cultura informativa della socialità dell'abbattimento delle barriere come valore e fino a tanto che gli eletti avevano l'obbligo di avere questa domanda di fronte e far di fronte se non l'avrebbero mai fatto la mia domanda quando è che informazione di prima prima avevo fatto una domanda sull'informazione come si può avere appunto un bilancio come si può avere un bilancio partecipato se non c'è dall'altra parte un'informazione discorso delle architettoniche se usate battute perché se c'è stata una campagna culturale non c'è la direzione oggi si parla di un workshop su bilancio partecipato ma di fatto si viene a dire che non si può fare perché quelli che comandano sono gli eletti che decidono loro se parla di ufficio di centramento passare ai consigli di zona la parla di decidere come gestire i fondi sulle varie zone ma si dice allo stesso tempo che saranno gli eletti e i vari consigli che non sono comunque controllati non c'è informazione non ci parla non è che accedere con le telecamere nei consigli di zona per portare fuori quelle che sono le cose vengono decise lì dentro quindi torniamo alla domanda di prima il bilancio partecipato è funzionale serve bisogna arrivare lì però per farlo ci vuole l'informazione non i paletti tra le ruote i bastoni tra le ruote come ho sentito prima spingiamo sull'informazione in modo tale che tutti i cittadini si interessino partecipino prendano conoscenza e coscienza di quello che si può fare e facciano più di costa il rapporto culturale della vecchia è costato un'ora e mezza parte diretta le domande sono tante allora scusate la manifestazione di Stefano poi la Nostra Guzzo e poi il quattro no io volevo aggiungere un aspetto un aspetto fondamentale secondo me quando si parla di partecipazione di democrazia di democrazia partecipativa e di innesto di questo processo di democrazia rappresentativa a me io sono sempre abbastanza netto mi ha fatto un po' mi fare a brividire quando prima eri netto adesso sei abbastanza netto sono abbastanza netto no a me però adesso mi fare a brividire quando si sento parlare quando si crea una barriera netta tra chi ha la responsabilità politica e chi non ce l'ha cioè chi è stato eletto e chi non è stato eletto allora si parla della difficoltà tra il consenso e la responsabilità il fatto che bisogna dire noi cittadini perché i cittadini poi capiranno che la mia decisione è quella giusta questo è un modo di pensare dal mio punto di vista ovviamente come singola persona che crea una barriera enorme nel processo di democratizzazione di una città perché uno degli aspetti della democrazia partecipativa è la corresponsabilizzazione delle scelte non è un scelgo io tu non decidi è un fatto che le scelte politiche si fanno assieme se io non ho nella mia concezione democratica il fatto che sono i cittadini che devono rendersi conto che quella scelta deve essere fatta e non rientra nelle mie categorie concettuali io posso fare tutta la democrazia che voglio ma mi scontrerò prima o poi nel conflitto della responsabilità e il consenso e democrazia non si può parlare di democrazia senza consenso perché non è il consenso non deve essere visto come una cosa populistica o una cosa demagogica il consenso è co-decidere cioè progettare assieme la città qual è il consenso? allora invece viene vista viene vista anche dagli interventi che ho sentito di alcuni amministratori come il consenso come una cosa da cui tirarsi un po' indietro e per cui prendersi il politico deve prendersi la responsabilità di dire no al cittadino no il politico deve prendersi la responsabilità di far capire al cittadino ma non è il politico che poi decide è sempre il cittadino che decide perché poi dopo 5 anni si rivolta allora l'obiettivo dell'amministrazione non è dire ti mostri per 5 anni e poi ripoti no 5 anni il mio sforzo è farti entrare dentro le istituzioni giustissimo questo è giustissimo e allora bisogna in talità la rimarca è perfetta in un paese in cui ci sono 250 milioni di evasione fiscale tra evasione e delusione il problema c'è il problema c'è perché il signor Beffera se si mette a consultare il cittadino ogni volta che fa l'obiettivo a cortina muore quindi il problema dell'amministrazione decidente rispetto alla incivilità della società noi ce lo dobbiamo porre mica ci mettiamo a sognare che la società è buona mica ci mettiamo a raccontarci che la società è buona il cittadino è decido no io sto dicendo io non voglio dire che la società sia incivilità ma sono tra quelli che difende la scelta della parola società civile perché evidentemente c'è un pezzo di società che non lo è e in un pezzo di società non lo è perché se no non ci sarebbe la mafia perché se no non ci sarebbero interessi malavitosi perché se no non ci sarebbero 250 miliardi di evasione rispetto al quale il problema c'è e non possiamo metterci via santificare la società perché semplicemente non è politica noi abbiamo una costruzione della società che per metà per metà espropria lo Stato dal controllo del territorio andiamo scherzando proponiamoci tutti noi parteciparci e non ci sarebbero la vita neanche nel basino io non mi inginocchio davanti alla società capisco quello che dice Stefano lo capisco capisco lo sforzo pedagogico delle istituzioni che includono lo capisco è l'oggettivo insegno questo è la mia materia ci credo però senza inginocchiamento di fronte alla società buona perché non ci ha mai creduto alla filosofia non ci ha mai creduto a un diritto e non ci crede nemmeno a un po' come sovrano per cui diciamo la verità perché sennò il popolo è sovrano decide ma io lo so in realtà sono tanti spunti ne scelgo solo alcuni perché ovviamente parlando di partecipazione poi si coinvolgono tutta una serie di implicazioni che quando si va a governare bisogna considerare io penso però una cosa per me prima di tutto c'è un programma con cui si arriva a governare ed è su questo che bisogna essere anche valutati perché la responsabilità che i cittadini hanno nell'eleggere qualcuno e nello scegliere qual è la linea politica che si vuole portare avanti inizia proprio con il voto io su questo tornerei con maggiore un po' di determinazione anche perché il consenso come dicevamo in realtà non è qualcosa che va mutando nel corso degli anni di governo e quindi a seconda di quello che la maggioranza ti porta a dire o ti chiede tu cambi per andare incontro a qualcuno piuttosto che a qualcun altro c'è un programma che è un po' la tua carta di identità la cartina di torno ma sola che fa capire se stai facendo quello per cui sei stato eletto io penso che questo sia un primo riferimento di serietà prima di tutto la seconda questione riguarda una partecipazione in cui io credo se no non avrei contribuito neanche a realizzare questo seminario che però ha bisogno di essere recuperata noi veniamo da tanti anni in cui di fatto tutti questi discorsi sono stati di piccole parti forse illuminate forse no e di fatto non c'è un'abitudine a dare qualità alla partecipazione io non sono così convinta che partecipare decide sia una stessa cosa perché vengo da una tradizione per cui si pone il proprio onore nel meritare la fiducia e questo non è banale cioè dare la propria parola il proprio impegno per far sì che altri abbiano fiducia in noi questo vale tanto per chi fa politica quanto per chi la richiede quindi anche il cittadino è investito di una responsabilità quando si fanno per dire le osservazioni al PGT bisogna stare attenti nel distinguere quelle che sono delle osservazioni che vanno per il bene comune da quelle che sono quelle per il NIMBI allora anche in questo e lo faccio come è vero ho fatto questa osservazione c'è questo inciso proprio perché si sta andando in una direzione di rilettura di un PGT che per esempio è stato fermato per volontà politica ma anche perché la storia che aveva portato alla delibera era come dire lontana dai principi di rispetto della democrazia sia dell'attività del consiglio che di quanti avevano contribuito a fare osservazioni quindi ci credo nella partecipazione qui c'è Patrizia Quartieri seduta in sala che sulla storia del PGT insieme a Mila Moratti potrebbe dire molto allora attenzione però perché va anche considerato che non siamo una serie di portatori di interessi ognuno del suo cioè qui c'è anche bisogno secondo me di un'amministrazione di un governo che abbiano una visione di insieme e quindi ascoltati tutti data la possibilità a tutti di esprimere un punto di vista e una richiesta poi si recupera un discorso più generale però perché l'esempio che facevate prima per esempio della consultazione mi ha fatto un referendum che ha detto i milanesi vogliono che ci sia un maggiore impegno diciamo allegro sul quesito numero 1 ma io c'ero la sera in cui c'è stato l'incontro dell'assessore in zona 1 avessimo fatto un referendum in zona 1 prima della partenza di area C non l'avremmo fatta partire questo non significa che io non creda nella partecipazione dei cittadini credo che bisogna stare molto attenti a recuperare una dimensione civica globale e non andare al not in my backyard perché tutti poi sono bravi a fare le cose a casa degli altri se sono faticose o a casa propria se sono buone in questo condivido l'impostazione del dottor Orlando cioè non è che sono tutti buoni quindi qualsiasi come dire proposta è nello spirito positivo chiudo questo intervento semplicemente come dire dando uno spot diciamo di prosecuzione perché oggi abbiamo contribuito a come dire abbiamo collaborato sostanzialmente realizzazione di questo incontro ne abbiamo seguito in parte perché c'è una attività di consiglio contemporanea vanno nella direzione di come dire lavorare su questa partecipazione informata perché io penso che abbiamo io in particolare ho davanti ancora quattro anni e mezzo e non voglio come dire né anticipare né fare tutto in un momento mi rendo conto che serve del tempo stiamo lavorando molto sul recuperare la profondità di relazione con i cittadini sulla base anche appunto di conoscenze che vanno migliorando la prossima settimana verrà presentato questo muscoletto che si chiama bilancio in arancio e fa quello che dicevate voi cioè prende il bilancio 2010 l'ultimo consultivo che è stato definito e approvato lo sguonta e fa capire qual è la differenza fra la spesa corrente e il conto capitale quali sono le voci di spesa di un bilancio comunale in particolare quello milanese quanti soldi sono stati spesi nell'uno e nell'altro modo da dove arrivano le considerazioni che si sono fatti per esempio rispetto al buco e che mettono un come dire non dico in condizione esau stimo una volta che uno legge lo plusco l'agosto però deve venire un pochino più voglia secondo me alle persone di cominciare a riappropriarsi della politica e non è cosa da un minuto e non è cosa da slogan va ricostruito un rapporto che anche da parte nostra ha bisogno di più fiducia nei cittadini con cittadini che hanno più fiducia nel fatto che le istituzioni possono essere anche al servizio della buona politica se vi interessa appunto non ce ne sono qui in copia verranno distribuite è martedì all'Urban Center alle 6 grazie possiamo scaricare un massimo sì c'è un sito del movimento Milano Civica comunque poi ci sono tutte le informazioni su partecipabili io capisco che c'è spettino di questo diuracito che ci porterebbero ancora avanti credo che la logica dell'inventario sia giusta e sia una tappa qui Fiorella dei cinghie di diuracchi raccoglieranno un po' se vogliono intervenire conclusivamente se hanno ancora cose da dire sì io voglio solo ringraziare tutti voi che siete stati qua fino ad ora i due giovani relatori che sono stati bravissimi applausi 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 che ci ha spizzicato l'inventario allora grazie a tutti eh no io non vorrei dirla io eh usiamo usiamo la rete per quello che ci possiamo fare quindi c'è una discussione dedicata a questo evento avviata due giorni fa su partecipami condusiamo quella discussione per consentire a chi non ha potuto intervenire di intervenire e per chi non ha potuto parlare di parlare di scrivere e comunque diciamo diciamo si ha partecipiamo tutti però il cantiere milanese se così possiamo dirlo perché c'è questo problema adesso di tenere l'impegno di dare il buon esempio deve dimostrare che il che pensi non serve e se non serve è perché il cantiere fa valere la logica partecipativa quindi io credo che in tutte le esperienze che abbiamo detto faremo un check tra sei mesi tre mesi avremo l'occasione avremo l'occasione a breve grazie mille grazie